rapide posto nel primo cortile. Ora, tanto più che siamo in tempo di guerra, avendo per tema la pace, la pace cittadina, la pace tra famiglie nobiliari in lotta. L'intento, mi pare, non è soltanto quello di rievocare l'avvenimento in senso quasi celebrativo, ma di approfondirne la valenza storica trattando dei precisi contesti in cui ebbe luogo, integrando così la testimonianza del giovane Tommaso di Spalato, studente a Bologna, che sentì predicare Francesco per la prima volta e ne rimase sorpreso e meravigliato, ma di questo si parlerà forse nella tavola rotonda. Ora la parola al signor Sindaco per i saluti. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, grazie davvero per questa vostra presenza. Per prima cosa voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno deciso di promuovere questa giornata. Siamo molto felici di ospitare qui oggi questo incontro e un particolare saluto a tutta la famiglia francescana che da ormai diversi anni condivide con noi l'organizzazione di questo festival. Noi siamo davvero onorati che il festival abbia trovato casa nella nostra città. Mi ricordo che nei nostri primi incontri ogni triennio il festival migrava in una città differente e alla fine, grazie anche, devo dire, ad una riflessione con il Cardinal Zuppi, abbiamo insieme appunto alla comunità francescana deciso di continuare ad ospitarlo finché voi ovviamente vorrete rimanere. Particolare poi è questo anno, questo anno così importante. Ne parlavo con la sindaca di Assisi alcuni giorni fa. Bologna e Assisi sono stranamente legate, due città legate da anniversari e anche legati al patrono, paradossalmente. La sindaca di Assisi sarà ospite nostra nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, stiamo cercando di organizzare un incontro, dedicheremo quell'incontro anche alla predica di San Francesco in piazza, perché crediamo il valore di questo avvenimento travalichi davvero i confini e debba parlare a tutti. E dedicheremo anche una riflessione ai temi dell'ambiente, alla transizione ecologica, due impegni molto importanti che oggi riguardano anche la frontiera della pace, indubbiamente. Avete deciso di dedicare il festival di quest'anno ad una parola molto importante, che è fiducia, oltre la paura. Quando esco di casa, accompagno i miei figli a scuola, c'è un bellissimo manifesto di San Francesco e del Lupo. Certo, leggere le croniche dei giornali in questo anno per noi tutti è ancora carico di paura, non possiamo non dircelo. Veniamo da due anni nei quali ci sono bambini che non hanno mai conosciuto, sono nati nei due anni della pandemia, non hanno mai conosciuto una situazione differente, sono entrati per la prima volta nei loro asili, nelle loro relazioni con una mascherina o con il distanziamento. Spesso rifletto cosa significa in questo tempo essere capaci di creare nuovi legami di fiducia e di reciprocità. Non è banale perché l'individualismo è cresciuto molto fra di noi. Da sindaco di una città come Bologna, che ha sempre espresso una grande cultura della solidarietà e che quasi come un antidoto ha sempre generato la solidarietà come una risposta alla separatezza, all'individualismo e ai conflitti negativi, devo dire che la presenza del Festival Francescano, di tutta la rete che durante l'anno lavora per costruirlo, di tutti i partner, di tutte le testimonianze, per me rappresenta un motivo di impegno molto forte, perché in queste giornate vediamo in piazza l'esito di un lavoro e di tante riflessioni, ma la cosa che più mi rincuora e mi dà forza è che la nostra città, nel suo insieme, la nostra comunità quotidianamente esprime l'antidoto della solidarietà e della fiducia in opposizione alla paura. Non è facile, non è facile ricostruire un rapporto di fiducia fra i cittadini e le istituzioni, ad esempio, come sindaco sono, credo che sia una delle mie prime missioni, quella di rafforzare le relazioni fra i cittadini e le istituzioni. Certo, il nostro compito come amministratori è di farlo attraverso anche i servizi che diamo, ma oltre a questo credo che ci sia un lavoro enorme che dobbiamo fare insieme nella caduta dei pregiudizi, nell'abbattimento delle discriminazioni e anche nella costruzione di un orizzonte di senso comune. Avrei detto il Cardinal Zuppi di persona, oggi non può essere con noi, ma gliel'ho scritto e ci siamo sentiti in questi giorni. Ho molto apprezzato la sua lettera che nei giorni scorsi, il quotidiano, la stampa pubblicato, lettera aperta alla Costituzione. Scherzando gli ho detto avete scelto il giorno dell'anniversario della breccia di Porta Pia per pubblicarlo, lui non se ne era forse neanche accorto, ma al di là di questo episodio credo che oggi rivendicare l'importanza dei valori costituzionali sia molto importante e in particolare il valore della pace. Pace che non va affatto data per scontata, anzi è messa in discussione non solo dalle scelte dei potenti, ma anche dai nostri comportamenti quotidiani. Tutti noi siamo responsabili della pace, non ci possiamo tirare indietro rispetto a questo principio costituzionale e di convivenza. Dall'educazione che portiamo ai nostri figli nelle scuole fino agli atti pubblici che ognuno di noi dimostra. Quindi davvero questo nostro lavoro assieme è un lavoro molto importante, molto importante che da 800 anni in questa città va avanti e davvero spero vada avanti ancora per altrettanti anni. Vi ringrazio. grazie sindaco per le sue parole, ora per un saluto passo la parola alla prorettrice professoressa Simona Tondelli. grazie, buonasera a tutti e a tutte. È un piacere per me essere qui stasera con voi a rivolgervi il saluto del magnifico Rettore e anche il mio personale. In occasione di questo importante evento che ci vede oggi riuniti per celebrare l'ottavo centenario della famosa predica di Francesco in Piazza Maggior a Bologna, il 15 agosto 1222. A Bologna, che già allora era un laboratorio di elaborazione culturale e di sperimentazione, Francesco rivolse alla piazza stipata una predica dai forti contenuti civili, indirizzando alla società cittadina allora divisa un messaggio di pace, oggi drammaticamente attuale. Le testimonianze storiche di quell'incontro giungono da studenti dell'università, Tommaso da Spalato, Federico Visconti, e non c'è dubbio che lo studio rappresentasse una componente essenziale della società cittadina cui Francesco intese rivolgersi, perché allora come ora il percorso intellettuale degli studenti era ed è strettamente intrecciato con la vita della città, con la sua dimensione civica, religiosa e politica. In particolare il racconto di Tommaso da Spalato sottolinea il suo interesse per una comunicazione nuova, efficace, aderente alle sfide del momento e in realtà sfide sempre quanto mai attuali, come quella della pace, della convivenza civile tra diversi. È credibile anche per la qualità morale di chi prende la parola. E sappiamo che non si è trattato di un caso isolato, perché proprio l'anno scorso abbiamo celebrato gli 800 anni della morte di Domenico qui a Bologna, dove proprio elaborazione culturale, sperimentazione comunicativa erano stati un catalizzatore potente per molti studenti dell'Alma Mater desiderosi di trovare una via per incidere nella società dell'epoca. Quel 15 agosto 1222 Francesco riuscì non solo a parlare a tutta la città e anche a chi, come le donne, erano escluse dalle aule universitarie, ma anche a metterla d'accordo e a sollecitare il dialogo tra le sue istituzioni, comune, chiesa e università. Il ricordo di quella giornata ci restituisce un modello di confronto nel rispetto delle differenze e delle diverse missioni a cui guardare anche oggi e che l'incontro di oggi vuole mantenere vivo. Agli organizzatori di questa iniziativa va quindi la mia gratitudine per lo sforzo congiunto nel promuovere questo confronto. Auguro a tutti voi buon lavoro e mi scuso fin d'ora se non potrò trattenermi, ma non è l'ultimo degli impegni della giornata. Grazie. Grazie, foro l'editrice. Ora, siccome il Cardinale non ha potuto essere di persona presente, ha mandato un videomessaggio che viene trasmesso. veramente buon intervista, mi piacerebbe bene essere presente in questi conti. dovremmo considerare, per l'altro, un nuovo accordo con entusiasmo alla scelta del Festival di dedicare un spazio di intenzione, tra l'altro, a tutti gli studiosi che conoscono, che stimoli, apprezzo per la loro competenza, per l'intelligenza, per l'originalità con cui sicuramente affronteranno questo anniversario. 800 anni, il 15 agosto, la piazza antistante al Comune, la piazza dove ci troviamo, i luoghi che percorriamo abitualmente. San Francesco che parla perché tutti capiscono. Quindi non parla per sé, non parla con un linguaggio da iniziati, non parla con un linguaggio ecclesiastico, non parla con un linguaggio comune, parla in vulgare. Perché qualche volta finiamo per parlare in latino o un linguaggio ecclesiastico? E perché parliamo tra di noi, perché pensiamo che siano il vero linguaggio e che ci sono gli altri che devono imparare il nostro, perché sono le categorie che interpretano la vita delle persone, e per caso delle persone non si sentono interpretate dalle nostre categorie. L'altra osservazione è che, come riporta, lo ascolteremo sicuramente nelle vostre ricostruzioni, nei vostri commenti, non parla come costile di predicatore, ma di un concionatore. Ecco, sicuramente i vari professori vi aiuteranno a capire la differenza. Prontamente diremmo che non parlava da prete, non predicava, ma conversava. Vuol dire volere parlare al cuore, vuol dire porre i contenuti in maniera più diretta, non impostata, ma molto più vicina, in cui è più semplice da comprendere. E la terza osservazione è la descrizione che Giovanni Rasparato ci offre su San Francesco. Qualche ricostruzione ce lo presenta attraente, bello. Invece la decisione è così, quasi devudente. Portava un abito suddicio, era spregevole, la faccia senza bellezza. Eppure Dio conferì alle sue parole tale efficacia, che molte famiglie e signorini, tra le quali il furore riducibile di inveterate nemicizie era divampato fino allo spargimento di tanto sangue, erano piegate a consigli di pace. E poi c'era tanta riverenza ed emozione della folla. Ecco, la bellezza non è un carattere stedore. Abbiamo tanti esempi di molta bellezza diafana, che non comunica nulla. Qualche volta andiamo proprio a cercare quella immagine pornografica della vita, che in realtà non comunica vita, che ne è una caricatura. La bellezza di San Francesco era il suo amore. Era il suo amore per Gesù e quindi il suo amore per i ganchi. E la forza della parola che liberava dall'odio. Chi arrivava al cuore liberava dall'odio, per cui le famiglie e signorini, addirittura, dopo tanto furore, erano piegate a consigli di pace. Viviamo in una stagione dove ci abituiamo tanto all'odio. Digitalo, no che sia, è sempre odio e produce sempre tanto odio e tanto furore. Ecco, credo che non soltanto dobbiamo ascoltare di nuovo la predica di San Francesco e forse anche noi imparare a parlare con convinzione è una lingua che arriva al cuore e che libera dai tanti semi di odio e di divisione. Ce ne sono tanti, abbiamo tanto bisogno di metterci nella piazza dove c'è la vita, quindi non giochiamo in casa, perché solitamente giochiamo fuori casa. Ma non è questo quello che ci chiede Paolo Francesco quando dice di uscire. è più rischioso, certamente, ma forse è il vero modo con cui facciamo scoprire la forza del Vangelo e forse anche noi la riscopriremo nella sua capacità di realizzare la vita degli uomini e di riportare gli uomini a quello per cui sono stati creati. Ora, una parola di saluto di padre Dino Dossi per il Festival Francescano. Ebbene, direi che il risultato minimo che ci aspettiamo da questo convegno di così alto livello è che finalmente troviamo il termine più corretto per indicare quel discorso di San Francesco di 800 anni fa in piazza a Bologna. Predica, Concione, Arringa, il cardinale Zuppi anche pochi minuti fa dice che non parlava da prete e nonostante questo o forse proprio per questo non l'ha detto Zuppi, lo dico io, riuscì a portare la pace a Bologna. a Bologna. Ecco, certamente non sarà solo questo il risultato di questo convegno, no? Però, così, è già una piccola cosa. Allora, passando, così, a un genere letterario più serio, ringrazio anch'io a nome del Festival il Sindaco che, fin dall'inizio, da quando il Festival è approdato a Bologna, ci ha accolti con tanta amicizia, con tanto sostegno, gli siamo davvero grati anche per le parole di apprezzamento che ha usato questa sera. Un convegno che ha come titolo Francesco in piazza non poteva che svolgersi nel contesto del Festival Francescano che ha la sua naturale location proprio nella piazza. Il Festival Francescano è onorato di poter iniziare la sua quattordicesima edizione con questo convegno ed è davvero grato ai professori Jacques Dallaran e Riccardo Parmeggiani di averlo organizzato e il ringraziamento si estende a tutte le realtà che hanno collaborato perché questo potesse avere luogo. Da domani fino a domenica scenderemo in piazza più o meno ma sentiremo gli storici la stessa piazza che 800 anni fa ha visto la presenza di San Francesco e l'ha ascoltato. Il ricordo di quel discorso di San Francesco apre così il Festival Francescano in modo accademico in questa sala prestigiosa e lo chiuderà domenica pomeriggio in piazza con uno spettacolo teatrale di e con il Ruggero spettacolo che grazie al professor Dallaran è collegato con questo convegno e che ci farà riascoltare la voce di Francesco. Tra qualche ora sapremo dunque come chiamare esattamente quella predica concione a Ringa di 800 anni fa che apre e chiude il nostro Festival Francescano e grazie a voi per la bella presenza. Buon lavoro. Ringraziamo tutti i rappresentanti dell'autorità e ora passiamo alla giornata di chiamiamola di studio con l'introduzione di Riccardo Parmigiani che si può accomodare. Riccardo Parmigiani è professore Unibo insegna storia medievale storia della Chiesa medievale i suoi interessi prevalenti di ricerca e molti scritti riguardano l'inquisizione i consigli per gli inquisitori gli ordini mendicanti le istituzioni ecclesiastiche e scolastiche dell'Emilia Romagna a lui la parola Esattamente un anno fa si apriva pochi passi da qui il convegno ufficiale dell'ordine domenicano per il proprio giubileo dedicato al tema Domenico e Bologna genesi e sviluppo dell'ordine dei predicatori l'iniziativa intendeva ricordare ed analizzare quale snodo decisivo abbia rappresentato per i destini della religione nuova il regame tra la nostra città e il fondatore dell'ordine che qui morisse agosto 1221 nell'agosto dell'anno successivo in occasione della festività di Santa Maria Assunta Bologna fu teatro della famosa predica o meglio come abbiamo già sentito concione di Francesco D'Assisi che intendiamo ricordare e approfondire nell'incontro di oggi anche la scelta del luogo in cui ci troviamo per la concessione della quale ringraziamo nuovamente l'amministrazione comunale e il sindaco è carica di significato in quanto di fatto prospicente la piazza allora gremita all'inverosimile come riportano le fonti piazza nella quale il santo pronunciò parole di pace così efficaci da tradursi in immediato riavvicinamento di famiglie reciprocamente ostili famiglie aristocratiche per certi versi in forma simile anche questo incontro intende rivolgersi globalmente alla cittadinanza e non rappresentare un'occasione celebrativa di stampo accademico nonostante il calibro internazionale dei relatori che ci hanno fatto l'onore di accettare il nostro invito chi vi parla ha il mero compito di introdurre gli interventi che seguiranno proponendo alcuni temi che saranno meglio approfonditi e ripresi dai relatori un primo elemento che mi pare vada messo in evidenza foriero di interrogativi è rappresentato dalla scelta di Francesco di recarsi a Bologna una città molto popolosa verso la fine del secolo 50.000 abitanti è la stima in grande espansione urbanistica è in quegli anni che viene probabilmente realizzato il primo tracciato della terza cerchia di Mura ed è soprattutto sede di uno studium il nome dell'università nel Medioevo capace di attrarre studenti da ogni parte dell'Occidente rappresentando nei fatti un laboratorio formativo dai ceti dirigenti laici ed ecclesiastici è largamente noto agli specialisti come Domenico di Caleruega San Domenico con il probabile input del cardinale Ugo Dosti a futuro Gregorio IX avesse inviato alcuni frati a Bologna proprio allo scopo di reclutare nuovi membri dell'ordine tra le fila dei docenti e degli studenti dello studium operazione che favorì l'assorbimento di metodologie e saperi funzionali ad un nuovo approccio di carattere dotto allo studio della teologia e delle sacre scritture in Francesco come altrettanto noto vi all'opposto il rifiuto della scienza in nome di un'adesione totale al Vangelo scevra da filtri di stampo intellettuale rivendicando orgogliosamente la propria condizione di uomo illetterato ciò nonostante nella piazza è largamente presente anche un pubblico di tipo colto come testimoniato dalle fonti per così dire in presa diretta che si devono a due studenti che oggi definiremmo fuori sede la testimonianza più dettagliata quella che trovate proiettata nella slide celeberrima è quella del chierico Tommaso da Spalato testimonianza che per l'occasione abbiamo deciso appunto di porre in evidenza Tommaso ci informa come in quella piazza fosse appunto cito confluita si può dire quasi tutta la città e come molte persone dotte i vi presenti potete leggerlo rimasero non poco ammirate per quel discorso di un uomo illetterato quelle di Francesco sono dunque parole persuasive improntate ad uno stile inconsueto inatteso diverso da quello abituale per un predicatore e simile piuttosto ad un concionatore ad un oratore politico parole testimoniate con coerenza fino all'espregevolezza ci dice Tommaso nell'adesione anche esteriore alla proposta evangelica verbo ed esempio rendendo così credibile e realizzabile quel messaggio di pace così atteso una pace ricercata con intenzionalità diverse e finalità precipua rivolta allo svolgimento della crociata anche dalla chiesa romana attraverso l'opera del citato Ugo Dostia il quale non solo fu un importante interlocutore di Francesco e funse da cardinale protettore dell'ordine un ordine non ancora formalizzato almeno nel 1222 essendo la regola bullata approvata nel 1223 ma che era stato protagonista un anno prima Ugo Dostia di un'importante legazione nell'Italia settentrionale svolta in contatto parziale con Domenico fermandosi a lungo in città qui a Bologna nelle settimane che precedettero e seguirono la morte del santo Castigliano San Domenico quali fossero le tensioni politiche sociali che pervadevano Bologna e molte altre città dell'Italia padana lo apprenderemo efficacemente dalla relazione di Giuliano Milani tornando a Bologna e all'università si deve dunque escludere per Francesco una progettualità di reclutamento di frati universitari che comunque vi furono un'etichetta che oggi la storiografia usa ma mi sembra altamente probabile che il santo di Assisi avesse una specifica intenzionalità verso la nostra città essendo i nuovi ordini mendicanti i primi proprio quelli di Domenico e Francesco religiones nove a vocazione urbana l'eterogeneità sociale di Bologna e il suo carattere internazionale per la presenza dello Studium non poteva non rappresentare una meta essenziale nella diffusione del messaggio francescano del resto per quello che ci dicono le fonti interne all'ordine e ne parlerà con ben maggiore competenza Monsignor Acrocca fu proprio Francesco ad inviare a Bologna il primo suo compagno Bernardo da Quinta Valle in quella che come sottolineato da Ovidio Capitani che cito può essere considerata la prima missione della Fraternitas dopo l'incontro con Papo Innocenzo III del 1209 e la conferma del proposito un vite dell'assisiate il primitivo insedimento bolognese in Santa Maria delle Pugliole al di fuori della seconda cerchia di Mura quella dei Torresotti tra le attuali Via Leopardi Via Polese e Via del Porto si sviluppò nei primi anni dieci del 200 grazie alla donazione di un anonimo giurista torna ancora una volta all'ambiente accademico rappresentando il nucleo fondativo di quella nascente circoscrizione minoritica che già dal 1217 è identificata quale provincia Bononiensis Bologna ha dunque un ruolo di rilievo nell'esperienza francescana già prima della Concio del 1222 del resto Tommaso Dacelano ci informa di un mancato passaggio di Francesco in città che per ragioni che presumo illustrerà Monsignora Crocca avviene contro la volontà di Francesco che aveva al contrario la specifica intenzione di recarsi di recarvisi Volens usa la fonte un verbo che indica un participio che indica volontà le vicende bolognesi dell'ordine in via di costruzione rimangono ancora da studiare sostanzialmente ferme ai lavori principalmente di scargo archivistico meritorio di padre Celestino Piana a Bologna peraltro negli anni negli stessi anni scusate negli anni se non nei mesi immediatamente successivi al discorso di Francesco in piazza giungerà inviato da Francesco Antonio di Padova che funse per la comunità locale da primo lector cioè di docente interno alla formazione religiosa ce ne parlerà padre Bertazzo tornando alla componente dotta del pubblico presente sulla piazza è interessante osservare come le testimonianze più precoci esterne all'ordine sulla presenza della religio inaugurata da Francesco giungano in assoluto non solo riguardo a Bologna giungano da ambienti notarili e da uomini di lettere da dettatori cioè i maestri dell'Ars Dictandia di retorica nello specifico il riferimento è a Buon Compagno da Signa attivo a Bologna prima e a Padova poi e a Guido Fava la cui opera più celebre la Rota Nova fu scritta sempre a Bologna negli anni immediatamente successivi al 1222 si tratta peraltro di intellettuali in relazione professionale non solo con l'università ma anche con le istituzioni politiche cittadine è credo una pura suggestione ma il fatto che Guido Fava proponga quale esempio di lettera sì fittizia ma non arbitraria come riconosciuto da Enrico Artifoni un'epistola relativa alla conversione francescana di un notaio non può non richiamare il fatto che secondo Tommaso di Eccleston frate Elia vicino a Francesco e futuro ministro generale dell'ordine avrebbe esercitato la professione di scriptor a Bologna di più il padre di Elia era originario del bolognese di Casteldebriti ma è solo si diceva una suggestione queste marginali considerazioni sono solo alcune tra i tanti spunti interrogativi stimolanti della predica concione di Francesco ad Assisi che peraltro giungerebbe nonostante oggi sia discussa la datazione e tende ad essere spostata al 1223 a poche settimane dal famoso capitolo delle Stuoie in cui il santo renitente all'esortazione di alcuni frati alla scelta di una regola già esistente avrebbe perentoriamente riaffermato in presenza del cardinale Ogodostia il carattere indifettibile del suo proposito religioso cito da novello passo dice la fonte incompatibile con quella scienza e sapienza così dice la fonte attraverso cui Dio avrebbe confuso i frati rimane un enigma anche l'esatto contenuto della predica della concio di cui conosciamo solo l'incipit gli angeli lo vediamo qui gli uomini e i demoni per cui ascolteremo con estremo interesse le proposte di Marco Bartoli mi devo dunque necessariamente fermare nell'episodio che oggi ricordiamo c'è un protagonista Francesco credibile e reale ritratto con un realismo fin anche crudo e c'è una folla stipatissima in magna pressura hominum una folla che si spintona che sta calcata riferirà da testimone oculare Federico Visconti allora studente poi arcivescovo di Pisa una folla composta da uomini e donne da tutta da dotti e da semplici da famiglie aristocratiche fra loro reciprocamente rivali vi era in pratica come testimonia Tommaso D'Aspalato tutta la società cittadina nella prospettiva della pace si concretizzò tra Bologna e Francesco un legame profondo che credo non unilaterale un legame profondo e duraturo nel tempo come testimonia l'inclusione di Francesco a metodo 100 tra i santi protettori della città e la proclamazione della festività nel giorno della memoria del santo dato che la concorrenza di dato con Petronio non rappresentava ancora un problema non essendosi all'epoca ancora affermato in forma esclusiva il culto civico dell'attuale patrono speriamo che questo incontro possa essere l'occasione per rinsaldare ed allargare ad un pubblico più ampio la memoria di un evento cronologicamente lontano 800 anni ma su un tema la pace come è già stato osservato drammaticamente attuale grazie grazie a Riccardo Parmigiani che ci ha introdotto veramente in media stress soprattutto per i contesti alcuni contesti di questo evento della predica concione ora passiamo al redattore Felicia Crocca che ci parlerà di Bologna nelle fonti francescane prego Felicia Crocca prima di essere nominato arcivescovo di Benevento nel 2016 ha insegnato storia medievale nella pontificia università gregoriana ha scritto molti libri su San Francesco e il francescanesimo in particolare il suo merito scientifico ha riguardato l'analisi delle fonti biografiche del santo a lui la parola io dovrei riflettere devo su Bologna nelle fonti francescane mi soffermerò soprattutto su alcuni episodi che riguardano appunto l'assisiate qui a Bologna si concentrano su ciò e lascio la predica sullo sfondo perché oggetto poi di altri interventi l'attestazione più antica ed esplicita di un passaggio di Francesca Bologna la troviamo nel memoriale di Tommaso d'Acelano quest'ultimo si serviva però di una testimonianza diretta pervenuta a seguito dell'indagine promossa da Crescenzio da Iesi dopo il capitolo generale del 1244 di cui una versione è giunta a noi attraverso lo speculum perfezionis le due versioni Tommaso e lo speculum coincidono anche se Tommaso precisa che Francesco era giunto nei pressi di Bologna partendo da Verona il tempo in cui il fatto si verificò forse l'agosto del 20 1220 possiamo precisarlo grazie al ruolo che viebbe il cardinale di Ostia legato papale nell'Italia centro-settentrionale che in quel tempo si trovava a Bologna Francesco invece in quei mesi si trovava nell'Italia settentrionale dopo esser sbarcato a Venezia al suo ritorno dalle terre d'oltremare Francesco non era ancora giunto in città dice Tommaso cito quando udì che vi era stata costruita una nuova casa dei frati che la voce comune diceva essere proprietà degli stessi d'altronde in quegli anni si venivano costruendo dimore per i frati la compilia Sassiensis nella pericope 96 parla di un'altra casa che qualche anno più tardi fu edificata per i frati a Nocera sopra Nocera Bagnara in quest'occasione qui a Bologna fu soprattutto il fatto che la casa veniva considerata proprietà dei frati a far saltare Francesco su tutte le furie d'altronde qualche anno dopo nel testamento sarà netto l'Assisiate si guardino scrisse detto insomma in quel testo si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese povere abitazioni e tutto quanto viene costruito per loro se non fossero come si addice alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola sempre dimorandovi da ospiti come forestieri e pellegrini non proprietari dunque come si diceva a Bologna Tommaso dice che Francesco e qui riprendo la citazione cambiò direzione e passò oltre non andando a Bologna mandò poi a dire ai frati di uscire subito da quella casa chiudo citazione l'ordine fu eseguito alla lettera tanto che di nuova procitazione non vi rimasero neppure i malati ma furono fatti uscire assieme agli altri fu il cardinale Uco a sbloccare la situazione dichiarando in pubblico davanti a tutti che quella casa era sua dice la testimonianza ne è testimone e riferisce c'è il fatto uno che trovandosi ammalato fu in quell'occasione allontanato dalla casa si vede che questo era ancora arrabbiato si capisce vent'anni dopo come si diceva il celanese il redattore dello speculum si rivelano concordi nel riferire la notizia registrando con scrupolosa fedeltà anche l'irritazione del testimone che traspare ancora evidente dopo tanti anni egli era allora in quella casa era malato nonostante ciò dovette uscire assieme agli altri Manselli ha ragione nel sottolineare questo dice questo è ancora arrabbiato quello che ho detto già prima insomma lo diceva già Manselli non è solo per questo motivo che ritengo che l'anonimo frate non sia uno dei compagni del santo cioè noi abbiamo molte pericopi che portano questa attestazione testimoniale nos qui fuimus un beato francisco nos qui fuimus cumillo nos qui cum ipso fuim non è lo stesso perché tutte quelle vengono da Tommaso attentamente cancellata che lavora in sinergia con i compagni quando scrive il memoriale questa invece viene mantenuta con scrupolosa fedeltà a riguardo è da rimarcare il fatto ne parlerà poi credo padre Luciano che pochi anni dopo a Bologna centro universitario per eccellenza Antonio di Padova lo dice la leggenda Benignitas fu il primo docente a tenere scuola nel settore teologico in facoltate teologica dice l'autore della Benignitas cito già che allora Colà funzionava lo studio di più alto livello in tutti i saperi liberali per questo sembrò bene ai frati cioè a quelli di maggior spicco ai dirigenti diciamo così ai superiori di destinare Antonio proprio là bene se teniamo conto di quanto accaduto nel 20 i due Francesco e Antonio sembrano in qualche modo proporre due modelli diversi di esperienza francescana se non Francesco Antonio sicuramente Francesco e i superiori che mandano là Antonio ciò che poteva costituire una difficoltà per gli agiografi posteriori non è da escludere che proprio tale disagio possa essere stata la molla iniziale di un percorso che alla fine portò l'autore degli attos Beati Francisci una fonte che nasce tra il terzo e quarto decennio del 300 a utilizzare un racconto del clareno secondo il quale San Francesco avrebbe maledetto Pietro Staccia perché avito di scienza l'autore degli attos prende questa testimonianza del clareno cambia il nome insomma arriviamo ma forse all'origine c'è questo disagio per cui qualcuno bisogna maledire per questa scienza non può essere Antonio è chiaro queste testimonianze poi avranno una diffusione enorme grazie alla volgarizzazione dei fioretti questa della maledizione intendo e inserite in opere a carattere compilatorio come Bartolomeo da Pisa e Marco da Lisbona hanno avuto una diffusione enorme secondo queste testimonianze dunque Francesco non sarebbe neppure entrato in Bologna ma c'è la testimonianza di Angelo Clareno Clareno è qui gli editori che hanno editato la fonte negli anni recenti padre Giovanni Boccali non l'editore ma Annoel Blink che ha messo le note non analizzano cioè non si pongono di fronte a questa testimonianza del Clareno o meno non ci dicono cosa ne pensano la lasciano senza note ma qui Clareno aggiunge un fatto inedito cioè né le fonti precedenti non parlano dice la riassumo che Francesco visto che la folla la voce comune diceva che quella era a casa dei frati Francesco se ne andò dai Domenicani se ne andò dai Domenicani e insomma non voleva andare dai suoi e lì c'era un frate predicatore un uomo di grande santità di grande scienza che convince Francesco Francesco non voleva andare e quest'uomo gli insiste dice andiamo lì vediamo se si convertono diciamo se se capiscono Francesco andò dice e li trovò pronti a ricevere la penitenza che lui avrebbe voluto loro ingiungere imporre e perdonò i frati quindi secondo la testimonianza di Clareno Francesco entrò a Bologna nel 20 non voleva andare dai suoi è convinto da questo frate Domenicano allora ciò mi veniva in mente mentre parlava il professor Parmegiani forse il 22 potrebbe essere tornato a controllare i suoi a vedere che facevano in questo caso dice vediamo un po' come stanno le cose perché il racconto del Clareno quindi consentirebbe di dire che Francesco si fermò a Bologna già nel 20 come ho detto gli editori non discutono questa testimonianza allora da parte mia credo sia bene premettere anzitutto che in più occasioni Clareno mostra di avere a disposizione fonti a oggi a noi inaccessibili sia nel cronico nel liber cronicarum sia nell'esposizio super regola lui cita fatti inediti di Francesco nel caso presente diversi elementi inducono a prendere in considerazione quanto egli scrive tenendo conto infatti che sarebbe risultata funzionale all'ottica del Clareno una condanna di quei frati più una condanna che non un perdono e una loro riabilitazione quindi già tenendo conto di questo che parlando di perdono Clareno si muove contro diciamo così la sua ottica va detto pure che quel racconto presenta tratti realistici Francesco infatti sembra che abbia avuto buoni rapporti con i predicatori e con il loro fondatore Domenico questo almeno da altre testimonianze la durezza che Francesco mostra nell'occasione è in linea con altri atteggiamenti suoi di uguale segno il dialogo tra Francesco e l'anonimo frate è straordinariamente ordinario quel frate dà prova di buonsenso e spirito di dialogo nulla di più come qualsiasi frate non interviene alcun segno eccezionale a orientare le cose se dovessi pronunciarmi direi che l'onere della prova spetta a chi volesse sostenere la falsità del racconto non a chi è disposto a dichiararne la sostenibilità poi certo Francesco sarà sicuramente a Bologna due anni dopo lo sappiamo l'abbiamo ascoltato non mi soffermo troppo su questa testimonianza che sarà oggetto di altri interventi lo rappresenta più come un oratore laico d'altronde se leggiamo appunto la retorica novissima di buon compagno da signa lui dice come un concionatore doveva muoversi non solo come doveva parlare ma come doveva muoversi come doveva mimare come doveva e d'altronde Tommaso D'Acelano dice in altre parti che Francesco di tutto il corpo aveva fatto una lingua si muoveva parlava facciamo un po' noi italiani del centro-sud che parliamo con le mani con tutto così ecco vedete pure me non sono un tedesco e Francesco non era del centro-sud ma dice Tommaso di tutto il corpo aveva fatto una lingua ora salto un po' per stare nei tempi e mi soffro entro su un altro episodio finora è stato poi l'abbiamo poco menzionato ne parla sì il nome è stato fatto Tommaso D'Aecleston Tommaso D'Aecleston ricorda no narra i ricordi che aveva frate Martino D'Abarton dice che ebbe la fortuna cito di vedere spesso San Francesco tra questi ricordi di questo frate Martino compare il seguente un frate dice che stava pregando a Brescia nel giorno di Natale fu trovato illeso sotto le macerie della chiesa durante quel terremoto che San Francesco aveva predetto e fatto annunziare dai frati in tutte le scuole di Bologna con una lettera scritta in un latino scadente in qua fu it falso in latino questo terremoto continua Tommaso d'Eccleston ebbe luogo prima della guerra ingaggiata dall'imperatore Federico e si protrasse per 40 giorni così che tutte le montagne della Lombardia per Lombardia allora si intendeva un territorio molto più vasto dell'attuale da un po' quasi il nord tutte le montagne della Lombardia furono scosse ecco quale credito dare a questa testimonianza citata spesso dagli storici attenti più però al giudizio sulle capacità letterarie di Francesco che non a discutere il fatto in sé allora cominciamo a dire che proprio l'accenno al falso latino pone un tassello a favore di questo racconto per quale motivo infatti il cronista avrebbe dovuto inventare una notizia del genere quale interesse poteva ricavarne in realtà teologi a geografi del santo teologi francescani a geografi cercheranno di non insistere più di tanto sul fatto che Francesco stesso si era definito in più occasioni ignorante e illetterato alla metà del 200 l'ordine era ormai disseminato per ogni dove e maestri francescani sedevano sulle più importanti cattedre universitarie quando Tommaso da Eccleston scrive la sua opera sull'arrivo dei frati in Inghilterra è già arrivato al generalato è già generale dell'ordine il più grande teologo che l'ordine aveva è generale Bonaventura in quegli anni quindi in un contesto del genere l'ignoranza del fondatore era divenuta ormai una questione sconveniente il fatto che questo in quegli anni ricorda beh va preso in considerazione non sussistono dubbi poi sul fatto che un tremendo terremoto scosse il nord dell'Italia nel giorno di Natale del 22 la notizia è testimoniata da diversi cronisti per poterla mettere in dubbio e Salimbene Parmense loquace linguacciuto pure diciamo più di dieci comari ma insomma è una fortuna per noi neppure in questa occasione non manca di particolari pittoreschi dice che nel giorno di Natale del 22 ci fu un grande terremoto nella città di Reggio mentre predicava nella cattedrale di Santa Maria Messer Nicolò vescovo della città e questo terremoto interessò tutta la Lombardia e la Toscana e fu chiamato soprattutto terremoto di Brescia perché in quella città fu sentito più forte e i Bresciani vivevano fuori della città in tende perché gli edifici non cadessero sopra di loro e molte case torri e castelli dei Bresciani furono distrutti da quel terremoto e loro si erano talmente abituati a quel terremoto che quando cadeva un pinnacolo di qualche torre o di qualche casa guardavano e ridevano forte dovevano pure sdrammatizzato veraci quindi un terremoto ci fu in quell'anno l'accenno al latino diciamo così ci fa pensare ma non solo perché questa testimonianza non è solo in Tommaso da Eccleston perché alcuni predicatori vi accennarono prima ancora che Tommaso scrivesse dell'opera sua in un sermone di Giovanni della Rochelle e Giovanni della Rochelle muore nel 1245 quindi il sermone tenuto prima di quella data ne fu pubblicata un'edizione dal padre Bougerot ma in anni più recenti è stata pubblicata una seconda reportazione un altro riportatore e in questa seconda versione in un manoscritto che è conservato a Monaco di Baviera si dice così che Francesco fu conformato al figlio nella prescienza delle cose future perché preannunziò anzitempo un terremoto agli studenti e predisse il papato a Gregorio No quindi prima del 1945 la notizia di una previsione di un terremoto circolava e i predicatori la diffondevano anche in un altro sermone pubblicato dagli editori di Guaracchi nell'opera Omnia di Bonaventura ma il sermone non è di Bonaventura forse di Odo di Chaturù non sappiamo si dice qualcosa di simile cioè che Francesco predisse il giorno e l'ora precisa di un terremoto che si sarebbe dovuto verificare e così accadde secondo quanto aveva detto qui si esalta naturalmente lo spirito di profezia del sacro ma ciò che a noi interessa è che questa notizia circolava è certo dunque che questa notizia di un terremoto circolasse tra i frati indipendentemente dai ricordi di fra Martino da Pato e così pure il fatto che il santo ne avesse fatto dare pubblicamente l'annuncio agli studenti è certo pure che nel 22 Francesco fu a Bologna sicuramente nella metà di agosto certo dall'assunta a Natale corrono più di quattro mesi e quell'asso di tempo possono succedere tante cose Francesco ovviamente non si fermò quattro mesi nella città e comunque sono più gli indizi che spingono a ritenere la notizia almeno nella sua sostanza che non quelli che invitano a metterla da parte nell'una o nell'altra permanenza di Francesca Bologna sembra doversi collocare anche la guarigione di un bambino che Bonaventura narra tra i miracoli in vita meglio inserisce nel racconto si intuisce che questo è uno dei miracoli in vita il racconto è collocato tra altri miracoli in vita di Francesco che tutti hanno però la fonte in Tommaso da Celano cioè Bonaventura mutua il racconto da Tommaso mentre di questo racconto Tommaso non aveva detto nulla è un elemento nuovo di Bonaventura quando si verificò questa guarigione cosa è successo perché non è raggiunta notizia a Tommaso non è l'unica volta che questo succede anche se i casi si contano sulle punte delle dita di una mano domande destinate a restare senza risposta certo Francesco fu tra queste mura certo predicò qui in piazza grande certo la sua parola produsse effetti straordinari possa consentitemi di chiudere con questa esortazione da prete aveva ragione Don Matteo Francesco non parlava da prete non parlava l'ecclesialese diciamo così che tante volte noi previ parliamo e consentitemela però possa ancora oggi quella stessa parola spingere anche a patti di pace grazie grazie a Felicia Croca che si è dato un esempio di critica delle fonti e di analisi come lui da tempo ha prodotto grazie infinite ora parla Giuliano Milani Bologna nel 1222 Giuliano Milani è professore ordinario dell'Università Gustavo Eiffel medievista con molti importanti interessi di ricerca studi danteschi la città del 200 la giustizia i bandi legislazione statutaria dei comuni di Popolo in particolare ricordo la monografia su Bologna nella collezione medievo delle città italiane a lui la parola grazie grazie presidente grazie agli organizzatori di questo evento per questo invito molto molto gradito sia perché mi consente di ritornare a Bologna cioè una città che amo molto dove sono stato molto bene sia perché mi consente di osservare una serie di fonti e di più in generale di fenomeni che di solito non sono al centro della mia attenzione perché più che di santi mi occupo di fanti e per questo chiedo scusa in anticipo diciamo della delle possibili ingenuità cominciamo dal dove nei primi anni venti la platea comunis e il suo palazzo costituivano marcatori dello spazio urbano bolognese da più di due decenni lo ha scritto Francesca Bocchi proprio nell'anno 1200 il comune aveva dato inizio alle operazioni di acquisto delle case e dei terreni per aprire questo grande spazio pubblico cittadino e laico si era trattato di un grosso investimento materiale e simbolico materiale perché i procuratori del comune avevano dovuto risarcire i proprietari degli immobili delle case private delle chiese delle residenze dei preti spendendo quasi 3000 lire che all'epoca non era poco e poi pagare anche i lavori di distruzione e di ricostruzione simbolico perché in questo modo era stata creata appunto una nuova platea quella chiamata comunis tra due plate già esistenti allora una che era diciamo legata un po' più al potere ecclesiastico la platea Maior che andava dall'attuale via d'Azeglio alla facciata diciamo di San Pietro e l'altra la platea Lambertaciorum che stava un po' più in là situata tra l'attuale via dell'Archiginnasio e appunto legata come dice il suo nome al potere di un lignaggio di Milites strepio aristocratici questo spazio che dalla sua funzione di luogo di decisione di luogo di giustizia fu anche chiamato curia comunis occupava lo si è già detto quasi la stessa estensione dell'attuale piazza uno spazio che la rendeva immensa in una città tanto più ridotta che all'epoca finiva poco oltre a Cerchia dei Torresotti prima diciamo di quel primo centro francescano di cui si parlava prima in questo spazio sin dal principio cioè dal 1200 anno si volle includere un palazio nome evocativo quanto altri mai nella città dei giuristi che a Roncaglia avevano riesumato 50 anni prima le leggi imperiali tra le quali quella che identificava la presenza del potere pubblico proprio nel palazio e che un secolo prima avevano distrutto la rocca imperiale anch'essa situata poco più in là anche se non ci sono tante tracce archeologiche quasi di fronte alla cattedrale che con quella distruzione di quella rocca imperiale di quel palazzo imperiale avevano dato inizio proprio in qualche modo all'esperienza comunale stessa anche questo palazzo l'attuale palazzo del podestà quindi non quello in cui siamo noi ma quello che abbiamo alla nostra sinistra dal mio punto di vista come la piazza aveva anche di maestoso e sproporzionato se pensiamo che possedeva anche lui più o meno le dimensioni di quello odierno che presentava già quella struttura caratteristica di una costruzione accogliente articolata in uno spazio porticato verso la piazza sormontato da una ringhiera fatta apposta per chi teneva discorsi e di spazi chiusi dall'altra parte che ospitavano uffici zecche carceri sale di riunione e che presentava già come ancora oggi la soluzione virtuosistica architettonicamente virtuosistica possiamo dire di una torre campanaria che probabilmente era più piccola di quella che si vede oggi e forse era anche di legno poggiata però su pilastri e volte su quello che oggi si chiama il voltone del podestà cioè su uno spazio vuoto da riempire con botteghe e banchi pubblici affittati a notai e commercianti così come la piazza anche il palazzo risaltava quindi per la sua unicità oltre che per le sue dimensioni questo sfondo non contemplava ancora ovviamente non contemplava ancora San Petronio che oggi ha di fronte ma nemmeno gli altri due palazzi pubblici oggi difficilmente distinguibili quello di Renzo quello del Capitano del Popolo che ha dietro e nemmeno il palazzo in cui siamo oggi nei luoghi occupati da questi edifici c'era ancora abitazioni private che i lavori pubblici avevano lasciati in piedi diverse per funzione forma e scala da quel poderoso per l'epoca palazzo e da questa piazza che aveva di fronte unici simboli e strumenti di un potere nuovo nel palazzo e nella piazza si svolgevano dunque da due decenni tutti gli atti della politica cittadina in una logica di concentrazione e distinzione decisamente più accentuata che nella maggior parte dei comuni contemporanei e anche più grandi come Milano Firenze in questi altri comuni le riunioni si facevano spesso ancora in luoghi simbolici le arene i teatri romani ma più sparpagliati si facevano anche in chiese in case private a Bologna no per le attività del comune esistevano spazi davvero comuni anzi del comune quando Francesco parla in questa piazza nel palazzo del Podestà si riunisce da vent'anni il consiglio del comune presieduto appunto dal Podestà questo magistrato forestiero che arriva ogni anno da fuori probabilmente avviene questa riunione nella sala più grande posta al primo piano e perché perché in quei vent'anni da quando esiste quel palazzo a quando arriva Francesco il consiglio cittadino non ha fatto che aumentare di membri dai circa 100 del 1203 quando il palazzo è ancora incompiuto sono diventati dei 250 intorno a 1220 questa evoluzione crescita del consiglio registra come in altre città quasi come un sismografo il mutare dei rapporti di forza il consiglio di credenza che nel linguaggio dell'epoca significa il consiglio segreto è dominato dai milites i cavalieri coloro che hanno i soldi per comprarsi i cavalli e il tempo per imparare a combatterci e questo consiglio nei primi decenni del 200 va aprendosi molto cautamente al reclutamento di persone esterne alla milizia negli anni 1217 1219 abbiamo tracce del fatto che accanto a questo consiglio viene da affiancarsi in un altro diverso un consiglio generale dicono le fonti di cui fanno parte anche i membri delle società del popolo composto allora da poco meno di 250 membri dopo il 1219 però questo secondo consiglio sparisce lasciando in piedi solo quello diciamo precedente affiancato dalla curia cioè dall'insieme anch'esso in crescita in quest'epoca degli ufficiali del comune di quanti cioè eseguono incarichi per la città stimatori misuratori calcolatori notari riscossori delle imposte e che dalla città sono pagati davanti al consiglio nella piazza si riunisce infine un quarto organismo politico dopo il consiglio il consiglio generale e la curia e che è l'unica istituzione che è sopravvissuta alla rivoluzione che ha imposto insieme al palazzo la presenza del podestà forestiero si tratta appunto dell'arengo dell'assemblea non elettiva di tutti i cittadini maschi adulti chiamata non a prendere decisioni complicate ma a provare le decisioni dei consigli l'insediamento del podestà le condanne penali più gravi le dichiarazioni di guerra gli accordi di pace più solenni non sappiamo quanti fossero gli abitanti quando arriva Francesco perché non abbiamo ovviamente liste anagrafiche e per questo siamo costretti a lavorare con le liste che abbiamo provando a moltiplicare per esempio le liste di chi partecipava all'esercito per delle sorte di moltiplicatori che costituiscono delle stime standard per quest'epoca non abbiamo nemmeno una lista di atti alle armi ma abbiamo un altro documento una lista di uomini che giurarono un patto con Pistoia pochissimi anni prima questi uomini sono 2180 non è del tutto insensato immaginare che costorano più o meno gli stessi che partecipavano alla rengo alla concio e che un patto come quello era il tipico atto appunto che veniva approvato in assemblea se moltiplichiamo i loro nomi per 3,5 abbiamo una popolazione urbana totale compresi tutti vecchi bambini e donne di meno di 8.000 persone se pensiamo che i posti del cinema sotto le stelle che sono piuttosto comodi torne quali ce ne sono tanti altri possono arrivare a 4.000 quando i cronisti o Tommaso di Spalato o gli altri dicono che quasi tutta la città venne a sentire Francesco forse non si allontanano troppo dal vero e questa assemblea che veniva chiamata anche Concio su questa assemblea si rivolge di solito chi si affaccia alla ringhiera del palazzo per incitare convincere lusingare la folla dei bolognesi per concionare appunto e con uno stile da concionatore più che da predicatore Tommaso di Spalato ci dice che Francesco si rivolge a questo stesso pubblico in quella stessa piazza per dire che cosa torniamo a quella pagina che abbiamo avuto tante volte davanti agli occhi proprio a partire da questa pagina ci si è interrogati molto sulla forma che quel discorso può avere avuto Enrico Artifoni ha fatto notare in un articolo importante che il Tommaso da Spalato che scrive questo passaggio lo fa con ogni probabilità molti anni dopo tra il 1245 e il 1251 anche alla luce della propria esperienza di assistente o accompagnatore dell'impianto del sistema podestaria viene a sua città Spalato compiuto da un podestà anconetano alla fine degli anni 30 e nel dire che lo stile di Francesco è quello di un concionatore secondo questa persuasiva ricostruzione di Artifoni Tommaso quindi fa riferimento a una pratica che conosce quella degli ufficiali che si rivolgono alle piazze riunite e ai consigli per mettere in rilievo cito Artifoni l'uso di una tonalità parenetica esortativa in maniera civile un uso continuo Artifoni non privo di un certo decoro formale altrimenti non si spiegherebbe lo stupore dei literati presenti che lo confrontavano con la modesta cultura delle assisiate quanto al contenuto due sono informazioni che questa fonte ci dà la prima è che quello di Francesco fu un potente discorso di pacificazione civile due che il discorso prese le mosse dal tema degli angeli i demoni e gli uomini ora questa compresenza non può non farci pensare e in effetti qualcuno ci ha pensato perché l'ha messo nella parte alta dell'immagine di cui che testiamo nel nostro evento a quella famosa cacciata di diavoli da Rezzo che è raccontata da Tommaso Cerano e Bonaventura però parlare di diavoli forse anche di angeli in un contesto come quello della piazza del comune può far pensare anche ad altri incroci uno è un testo molto interessante valorizzato da Roberto Rusconi e poi da Michele Pellegrini un detto un po' tardo attribuito a Francesco in cui il poverello avrebbe detto che i demoni sono i castaldi del Signore nostro e come il podestà spedisce il suo castaldo a punire un cittadino così il Signore corregge e castiga questa messa in parallelo della gerarchia comunale di quella divina diventa poi una messa in prospettiva in un altro testo sempre francescano dotato forse di maggiore affidabilità cioè la lettera ai populorum rectores che sta nei fontes franciscani e che può essere datata forse a un'epoca molto vicina a questo del discorso bolognese in cui Francesco chiede ai podestati della città di non concentrarsi sulla vita terrena ma su quella eterna ricorda ai governanti di non dimenticare il Signore perché le inquietudini di questa vita sono nulla rispetto all'eternità e tanto più saranno stati sapienti e potenti quanto più soffriranno i tormenti dell'inferno questi testi fanno pensare che nel parlare di angeli demoni e uomini Francesco abbia voluto alludere a funzionari e gastaldioni superiori a quelli che risiedevano nel palazzo che aveva di fronte capaci di più durature e punizioni e che possa aver raccomandato ai cittadini di Bologna di riflettere sulle azioni che facevano in vista della salvezza e pacificarsi prima che fosse troppo tardi è possibile ora farci un'idea e capire quali fossero le famiglie che si piegarono a questi consigli di pace? Diciamo subito di no le fonti che possediamo però forse ci permettono di capire o almeno di ipotizzare quali fossero le ragioni per cui in quel momento lottavano la prima era una ragione strutturale come in tutte le città comunali la conflittualità interna dell'aristocrazia era diffusa e generale e si era fatta più intensa da almeno una generazione grazie alla crescita economica quella classe formata dai cittadini che appunto combattevano a cavallo i milites che ha studiato Jean-Claude Mervigueur era andata crescendo per quasi un secolo e alla fine del secolo XII aveva raggiunto quasi un punto di saturazione anche perché l'espansione comunale cioè quel processo che aveva portato all'aumento delle entrate da cui i milites traevano profitto beni comunali bottini riscatti eccetera andava raggiungendo i suoi limiti anche Bologna raggiunge i limiti del suo contato in quegli anni e ad rimostrare il fatto che anche a Bologna una buona parte dei conflitti tra famiglie doveva essere stata questa litigiosità diciamo generale è il fatto che le cronache bolognesi nel parlare di scontri tra famiglie quasi non ce ne danno la ragione sono scontri come dire gratuiti sappiamo che esistono conflitti magari forse le fonti sono un po' tardi tra i garisendi e bulgari sappiamo che i carbonesi nei loro patti volti alla costruzione di una torre che era un po' più in là si alleano con loro contro i galluzzi una torre che ancora esiste ma le cronache ci dicono che diventano interessanti proprio perché mostrano l'inconsistenza delle ragioni spesso queste famiglie si trovano a uccidersi reciprocamente quando fanno dei ludus battaglie cioè dei combattimenti rituali e da lì partono delle vendette a questa conflittatia diffusa però una decina di anni prima del discorso di Francesco si va aggiungendo un altro fattore le pressioni esterne che provengono soprattutto da nord-est nelle città venete come anche a Ferrara la società in questa epoca è diversa da quella di Bologna mentre a Bologna le famiglie aristocratiche sono più o meno tutte nello stesso livello ci sono differenze ma non enormi in Veneto e a Ferrara nelle città due stirpi spesso eredi di titoli e fortune legate all'esercizio del potere pubblico conti, marchesi staccano di netto le altre ed è attorno a loro che le famiglie si dispongono dando vita alle parti organizzate che si alleano con le fazioni di città di vicine e poi si escludono reciprocamente spesso queste parti organizzate prendono posizione rispetto agli eventi sovraregionali è il caso della lotta per la successione imperiale che si scatena dopo la morte prematura di Enrico VI tra la casata di Hohenstaufen a cui apparteneva quell'imperatore e quella di Baviera a cui appartiene Ottone IV che viene incoronato da Papa Innocenzo III che però l'anno successivo lo scomunica a 1210 per appoggiare la candidatura il più giovane e allora controllabile Federico II nei città comunali le parti si schierano con l'uno con l'altro candidato e in quelle in cui le parti non sono ancora formate il comune sceglie uno dei due candidati e i suoi oppositori l'altro così si forma un fronte ancora fedele a Ottone da una parte che comprende Milano Brescia ma anche i da Romano di Vicenza i Monticoli i Torelli di Ferrara e sul fronte opposto che appoggia Federico II ci sono Cremona gli Estensi gli Esuli Bresciani i Marchesi d'Este a Bologna in quest'epoca il governo segue Milano e Ottone al punto che il Papa minaccia la città di togliergli lo studio proprio nel 1211 che costituiva come è noto una risorsa economica oltre che culturale per tutti i bolognesi proprio se persisterà a quella fedeltà all'imperatore ma vi sono tracce del fatto che all'interno della milizia qualcuno recalcitra qualcuno non è d'accordo con questa fedeltà a Ottone una lettera inviata nei miei 211 allegato pontificio da un personaggio celebre un po' d'està anche poeta in Provenzale che era Ambertino Buvalelli menziona la presenza di alcuni che vorrebbero aiutare i Torelli a rientrare a Ferrara e altri che non vogliono fare e chiede allegato di non venire a Bologna per evitare che scoppi un conflitto lo stesso anno altre norme ci dicono che la situazione era molto molto tesa tra chi come dicevo non è affatto facile capire chi potessero essere le famiglie che stavano sull'uno e sull'altro fronte una traccia la possiamo trovare negli incarichi podestarili che i membri di quelle famiglie ricoprono all'estero e da questa traccia possiamo farci l'idea che per esempio Rambertino Buvalelli stia con il comune con Ottone così come gli altri della sua famiglia allargata la famiglia Geremei che darà proprio in fondo poi il nome a una delle parti bolognesi sull'altro fronte possiamo immaginare per esempio che si situi già Giacomo di Bermardo Carbonesi che è podesta a Vicenza in un anno in cui avviene un bando e che poi ricopre lo stesso incarico a Cremona dobbiamo un po' fare come dire questa ricostruzione a mosaico quel che è sicuro è che le parti a Bologna continuano ad essere presenti anche negli anni successivi nel 1212 infatti a Bologna governano due podestà diversi segno che le cose non si sono sistemati e che ognuna dei due schieramenti vuole avere il suo di podestà e la lotta poi si complica attraverso dei processi che qua non sto a specificare quello che rimane e che diventa interessante dal nostro punto di vista è che quando Innocenzo III muore e viene sostituito da un papa un po' più debole che è Onorio III nel 1217 Bologna ne approfitta moltissimo per occupare dei castelli confinanti e che questa azione compromette drammaticamente dei rapporti che Bologna ha con il papato che sono già molto tesi già nel 1213 il comune aveva occupato insieme all'alleata faenza Castel di Imola e continuava a estendere la sua influenza sulla Romagna protetta dal pontefice nel 1219 Imola invia dei legati all'imperatore che all'epoca è alleato con il papa e che conferma la protezione imperiale Bologna reagisce con dei movimenti di truppe minacciosi che portano la città più piccola e debole di Imola a chiedere ancora una protezione dal papa al punto che quando Federico II viene incoronato imperatore l'anno successivo Federico invia dei legati a Bologna per chiedere la restituzione del contato di Imola quelli non la ottengono e Bologna subisce il bando imperiale a quel punto il protarsi di questo comportamento recalcitrante di Bologna scatena anche la reazione del papa Onorio III che scomunica direttamente il comune solo in seguito a questo brevemente nel 21 si arriviene a una pace ma poco duratura ancora una volta lo ripeto per la terza volta non abbiamo fonti per mettere dei nomi delle facce dietro a questi schieramenti eppure qualcosa vorrà pur dire se proprio uno diciamo delle famiglie che prima sulla base di altri criteri abbiamo potuto collegare a coloro che si oppongono ai governanti del comune e invece vanno d'accordo con il papa i carbonesi accolgono nel 1219 i domenicani al punto da concedergli appunto il terreno su cui poi si installeranno a lungo e sono ancora installati l'arrivo dei domenicani che del resto risale a pochissimi anni prima è strettamente legato alla presenza dell'università che in questi anni ed è l'ultimo punto diciamo per rendersi conto del contesto vive un momento particolarmente travagliato non solo come l'abbiamo già detto nel 1211 c'è la minaccia di togliere lo studio ma nel 1217 mentre il comune occupa i castelli contro il papa questa minaccia viene reiterata e probabilmente intorno a questa minaccia le parti bolognesi come aveva proposto tanti anni fa Antonio Ivampini si schierano va infine menzionata e mi fa piacere dirlo davanti al più grande esperto di questo atto l'ultimo coincidenza cronologica interessante che è quella tra l'installazione dei domenicani e la decisione presa dal papa di attribuire il potere di concedere la licenza a docenti all'arcidiacono del 19 una decisione come ha scritto Lorenzo Paolini era un compromesso tra le esigenze degli scolari e quelle del comune ma che comunque in qualche modo erodeva la capacità del comune di essere autonomo in maniera di controllo dello studio nel mio 222 questa situazione già attesa precipita ulteriormente e le relazioni tra Bologna e il papato si fanno più tese Bologna ricomincia ad attaccare Imola il papa reagisce emanando un interdetto e l'intervento del legato imperiale porta a un'ammenda di 5.000 marche d'argento non è forse un caso che questa minaccia tante volte reiterata in qualche modo trovi una realizzazione dal momento del mio 222 una parte dei professori va a Padova a fondare lo studio e questa lotta continua l'anno successivo e infine nel 1224 mentre il comune bolognese continua la sua ostinata resistenza Federico ancora ben d'accordo con il papa fonda niente meno che lo studio di Napoli un atto che come è noto non è proprio ben accolto dai bolognesi ecco mi sembra interessante che il discorso fatto da Francesca avvenga proprio nel momento in cui il comune di Bologna era governato da quanti si opponevano con maggiore forza le ingiuzioni del papato e dell'imperatore che questi aveva incoronato e che aveva giurato le costituzioni sin basilica Petri pacificare famiglie che per varie ragioni antica fedeltà relazioni con i nuovi ordini mendicanti interessi nella conservazione dello studio mantenevano il proprio appoggio a Onorio III e Federico II con famiglie che invece in perfetto accordo con il comune a questo appoggio si sottraevano poteva costituire in quest'ottica un'azione apprezzabile agli occhi di chi come il già menzionato Ugo Lino o Ugo da Ostia o lo stesso papa stava cercando con mezzi diversi più o meno conflittuali di riportare all'obbedienza una città recalcitrante collegare anche se in modo complesso e non vorrei che questo sia visto come una semplificazione il discorso in piazza a una politica più grande che dalle singole famiglie cittadine si estendeva al loro appoggio al comune da questo a quello al papato passando per l'alleanza con Federico II i nuovi ordini a sua volta legata alla politica universitaria potrebbe aiutare a capire ed è davvero l'ultimo punto le tracce di una certa durezza manifestata da Francesco rispetto a Bologna che non si colgono in questa fonte ma che riappaiono qua e là altrove penso per esempio alla cronaca del dominicano quattrocentesco Girolamo Burzelli che secondo il quale Francesco dopo aver detto involgare in quel famoso discorso tanto è il bene che io aspetto che d'ogni pena mi diletto avrebbe aggiunto che il comune doveva tenersi cara l'intercessione presso Dio di Domenico che era morto poco prima dal momento che era implicata in grandi crimini potrebbe trattarsi di un'invenzione tarda ma se consideriamo anche quello che abbiamo appena sentito sulla lettera con cui diciamo quello che ho appena ricordato sull'equiparazione tra i gastaldioni e i diavoli sulla lettera ai reggitori del popolo che si devono pentire in vista della vita eterna direi che si tratta di un'invenzione verisimile a questo avevo pensato di aggiungere una considerazione su come questi eventi e questo contesto potrebbe illuminare quell'annuncio di terremoto di cui abbiamo appena sentito parlare ma la cosa evoca non solo alcuni problemi cronologici non indifferenti ma anche un problema più grande che è quello del rapporto di Francesco non solo politico ma anche culturale con l'università sul quale in questa sala esistono persone assai più compenenti di me e per questo sono molto contento di cedere loro la parola grazie ringraziamo Giuliano Milani che ci ha introdotto e ci ha contestualizzato quella famosa predica con Cioni nel contesto politico interno e di politica estera perché era anche politica estera nei rapporti con le città vicine con il papato con la presenza di Ugo Dostia che dalla Toscana al Piemonte per tutto il 21 si era dato da fare per le pacificazioni interne e fra le città grazie infinite ora l'ultima relazione di Marco Bartoli riguarda proprio la ringa di Francesco Marco Bartoli è professore di storia medievale e di storia del francescanesimo nell'università l'Umsa ha scritto numerosi saggi e libri sul francescanesimo e sui personaggi del francescanesimo Chiara D'Assisi Pietro di Giovanni Olivi Bernardino da Siena Vincenzo di Bovegi Julienne de Cornillon Novellone da Faenza e Giovanni Nacapestrano e su la nostra Santa Caterina di Bologna a lui la parola grazie e dopo queste preziose e interessantissime relazioni che abbiamo appena ascoltato io ho un compito molto più umile io commenterò questo brano questo testo né più né meno allora su quale voi avete già ascoltato tanto a cominciare dal nostro arcivescovo quindi ci sono già cose tante dette io spero di poter dire ancora qualche cosa che possa avere qualche interesse cominciamo dall'autore non sappiamo molto di questo Tommaso si può dire che le notizie principali derivino da quanto lui stesso lasciò nella sua opera importante quella che dal XVII secolo è conosciuta come istoria come istoria salonitanorum atque spalatinorum pontificum cioè la storia dei vescovi di Spalato le date di nascita e di morte sono presumibilmente il 1201 e il 1268 il che significa che quando stava qui a Bologna e ascoltò Francesco Tommaso doveva avere 21 anni nella storia quando parla di sé usa abitualmente la terza persona il racconto relativo a Francesco è il primo in cui passa a parlare in prima persona segno evidente dell'importanza che tale racconto aveva per l'autore ed è evidente altresì il compiacimento di raccontare che lui era nello studium di Bologna Tommaso è fiero di essere un arcidiacono un chierico preparato nel più prestigioso centro di cultura giuridica del tempo quel 15 agosto insieme a molti altri chierici come lui Tommaso si trovava in mezzo alla folla nella piazza davanti al palazzo pubblico era lì per ascoltare qualcuno la cui fama aveva da tempo raggiunto Bologna Tommaso scriverà con rispetto che si trattava di San Francesco certo scriveva così dopo la canonizzazione in ogni caso anche se ancora non era riconosciuto santo Francesco d'Assisi era già nel 1222 un personaggio pubblico che attirava le folle Tommaso deve essere rimasto male quando ha visto di chi si trattava il ritratto che ne fa è stato già evocato è rimasto famoso l'abito era sordido la persona spregevole l'aspetto sgraziato ora questo ritratto corrisponde a quanto noi sappiamo dalle altre fonti Tommaso da Cerano nella vita Beati Francesci dice di statura piuttosto piccola testa regolare rotonda volto un po' ovale proteso fronte piana e piccola occhi neri di misura normale e tutto semplicità capelli pure oscuri sopracciglia dritte naso giusto sottile diritto orecchie dritte ma piccole tempi piane lingua mite bruciante penetrante voce robusta dolce chiara sonora denti uniti uguali bianchi labbra piccole sottili barba nera e rara spalle dritte mani scarne dita lunghe unghie sporgenti gambe snelle piedi piccoli pelle delicata magro veste ruvida sonno brevissimo mano generosissima ma noi sappiamo anche da altre fonti Francesco d'Assisi non era bello la memoria di questo aspetto spregevole si è conservata a lungo nelle fonti francescane ancora all'inizio del XIV secolo negli Actus si riporta il delizioso episodio accaduto a Francesco e a frate Masseo mentre erano in viaggio verso la Francia e mentre andavano insieme dovettero fare l'elemosina e accadeva che siccome Masseo era bello alto e forte quando alla fine si ritrovarono con le offerte ricevute Masseo aveva dei pani belli grandi e invece e invece i tozzi di pane vile e piccoli pezzi furono dati a Francesco proprio perché non attirava certamente l'attenzione dunque chi era Francesco? era un uomo di soli 40 anni certo provato nel fisico un uomo piccolo che non si imponeva per il suo aspetto era già malato agli occhi e non era in un momento facile della sua vita due anni prima era rientrato dalla fallimentare esperienza di Damietta e in quello stesso anno aveva rinunciato al governo diretto della Fraternitas riservandosi il lavoro di revisione della regola non era però un uomo rassegnato al contrario un uomo che conservava un orizzonte di azione di pensiero molto ampio è già stata citata la lettera ai reggitori dei popoli vorrei rileggere un pezzetto con voi per farvi l'idea di come Francesco fosse per certi versi ambizioso a tutti i podestai e consoli magistrati e reggitori di ogni parte del mondo a tutti gli altri ai quali giungerà questa lettera frate Francesco vostro servo nel Signore Dio piccolo e spreggevole a tutti voi augura salute e pace io con fermezza consiglio a voi miei signori che messa da parte ogni cura e preoccupazione riceviate volentieri il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo in sua santa memoria e siate tenuti ad attribuire al Signore tanto onore fra il popolo a voi affidato che ogni sera si annunci mediante un banditore o qualche altro segno che siano rese lodi e grazie all'onipotente Signore Dio da tutto il popolo nel 1221 la cosiddetta regola non bullata non era stata approvata Francesco si trovava dunque nel difficile momento della redazione di una seconda versione della regola che potesse piacere tanto alla curia quanto ai frati e non tradire i suoi ideali Tommaso da Spalato non poteva conoscere tutte le difficoltà in cui si trovava l'uomo che gli si presentava davanti al di là dell'aspetto esteriore è però un'altra caratteristica del santo ad essere rimasta fortemente rimarcata dall'arcidiacono di Spalato Francesco non aveva studiato Tommaso lo dice apertamente facendo suo il giudizio di altri chierici presenti in piazza come lui molte persone colte che erano presenti furono piene di ammirazione per quel sermone di un uomo illetterato la parola usata da Tommaso e tradotta uomo illetterato è idiote si tratta di un vocabolo che non ha certo il valore offensivo che è acquisito nella lingua italiana ma che sulla bocca di un chierico aveva pur sempre nel XIII secolo un valore molto negativo il significato di idiota è reso per esempio da Tommaso d'Aquino nella Summa con non abens scientiam acquisitam l'idiota è colui che non ha mai studiato e quindi ha una conoscenza paragonabile a quella di un bambino come sappiamo Francesco stesso utilizzò più volte questa parola nei suoi scritti a cominciare dal passo famosissimo del testamento et eramus idiote et sub diti omnibus e poi nella lettera tutto l'ordine in cui si professa qui a ignorans sum et idiota gli specialisti si sono attardati attorno a questa espressione perché d'altra parte è chiaro che Francesco in realtà idiota cioè analfabeta non lo era nemmeno per quel che riguarda la cultura in lingua latina che chieri ci rivendicavano come la sola vera cultura nel 1222 infatti erano almeno 13 anni che Francesco recitava l'ufficio liturgico in latino in diverse ore del giorno è vero che lo faceva leggere a frati più colti di lui ma è anche vero che ne afferrava il senso e che era dotato di un'ottima memoria non era dunque un uomo illetterato nel senso proprio del termine perché allora Francesco usa il termine idiota per descrivere se stesso e i suoi frati a mio avviso qui c'è una caratteristica del modo di parlare di Francesco che prendeva le parole usate per offenderlo e le utilizzava dando loro un diverso valore come dire voi mi considerate analfabeta idiota? io lo sono in un certo senso ma Dio ha scelto me analfabeta idiota per parlarvi di lui un discorso analogo si potrebbe fare riguardo alle accuse di essere simplex o pazzus ma ci porterebbe lontano dal nostro tema si tratta solo di un'ipotesi ma resta il fatto che in quella piazza Francesco doveva avvertire il pregiudizio intellettualistico dei chierici che erano venuti ad ascoltarlo la difficoltà è tutta segnalata a mio avviso da un'espressione usata da Tommaso d'Aspalato che parla di un sermone quindi non omeria non concione sermone allora il sermone di un uomo illetterato in latino sermo hominis idiote la cosa interessante è che Tommaso usi proprio la parola sermo il sermone l'omeria era infatti rigorosamente vietata ai laici tanto più se idioti cioè privi di cultura il decretum di Graziano e a Bologna si conosceva certo bene nel decretum lo dice con la consueta concisione giuridica preter domini sacerdotes nullus haudeat predicare salvo o davanti ai sacerdoti del Signore nessuno osi predicare Francesco invece a Bologna come in tante altre città italiane è un idiota ma un idiota che predica è vero infatti che secondo le ageografie Francesco aveva ottenuto sin dal 1209 da Papa Innocenzo III il permesso di predicare la penitenza ma usando il termine sermo Tommaso da Spaloto a mio avviso vuol dire una cosa diversa vuole spiegare che quello di Francesco fu un discorso religioso un discorso su Dio prova ne è il tema prescelto gli angeli gli uomini i demoni a dire il vero Tommaso non usa il termine tema che era termine tecnico come ci ha spiegato Carlo D'Alcorno nello studio che penso sia l'origine di tutti coloro che studiano la predicazione francescana tema era il termine tecnico per indicare il versetto biblico da cui si sviluppava tutto il sermone ma usa il termine esordio forse proprio perché non si trattava esattamente di un versetto della bibbia ma comunque di un tema certamente oggetto di teologia infatti da buon teologo Tommaso commenta di questi tre spiriti razionali parlò in effetti con tanta chiarezza e proprietà solo che subito dopo aver sottolineato la proprietà teologica del discorso di Francesco Tommaso ha un'osservazione molto importante e tuttavia non aveva stile di uno che predicasse ma di uno che concionasse la cosa che è stata più ripetuta quest'oggi giustamente da parte di molti è stata notata questa particolarità del discorso pubblico di Francesco il diacono di Spalato da buon chierico scusate si accorge che il santo parlava sì di cose di Dio ma non alla maniera dei chierici in chiesa predicando ma la maniera dei laici nell'assemblea di piazza concionata che Francesco parlasse in modo speciale è registrato in molte altre fonti a cominciare dalla lettera Mira Circanos con cui Gregorio IX ne proclamerà la santità dove si legge una predicazione semplice non adorna dei colori della persuasiva sapienza umana bensì della potente forza di Dio che sceglie le cose deboli del mondo per confondere le forti e poi vi si aggiunge superò molti uomini di scienza lui che era consapevolmente ignorante e sapientemente incolto persino Tommaso da Celano nel prologo della vita a Beati Francisci dice possa io meritare essere degno discepolo di colui che evitò costantemente il linguaggio difficile e gli ornamenti delle parole mentre la leggenda dei tre compagni dice le sue parole non erano vuote né ridicole ma piene della forza dello Spirito Santo capaci di penetrare nell'intimo dei cuori così da stupire e toccare con forza gli ascoltatori ma la vera punto nodale della testimonianza di Tommaso da Spalato è costituita dall'osservazione che tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le nemicizie a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace in che modo un discorso su angeli uomini e demoni può essere un discorso sulla pace è chiaro che l'obiettivo dell'omeria di Francesco era quello di portare pace e riconciliazione ma perché ha scelto il tema angeli uomini demoni gli uomini si trovano nel mezzo tra gli angeli da una parte i demoni dall'altra chi sono gli angeli e i demoni per Francesco possiamo rispondere partendo da questi ultimi i demoni tutti conosciamo è stato appena citato l'episodio della compilazio assisiensis che parla della città di Arezzo lo rileggiamo un momentino solo alcuni pezzetti quando arrivarono vicini ad Arezzo la città era interamente in preda allo sconvolgimento alla guerra civile giorno e notte a causa di due fazioni che si odiavano da lungo tempo vedendo questo Francesco e udendolo scatenarsi di strepiti e urla giorno e notte mentre alloggiava in un ospedale nel borgo fuori città scorse un nembo di demoni che si divertivano in quello sconquasso e incitavano tutti gli abitanti a distruggere la loro città con gli incendi e altre furie ne fu mosso a compassione e si rivolse a frate Silvestro chiedendogli di pregare per scacciare questi demoni risultato vado per andare più per oltre la conclusione della compilazio dice per la misericordia divina e la preghiera di Francesco gli abitanti di Arezzo tornarono poco dopo senza bisogno di alcuna predicazione a pace e concordia i demoni evocati dal racconto sono sentimenti di divisione rabbia odio disprezzo violenza guerra sono sentimenti ma sono anche qualcosa di più Tommaso da Spalato correttamente li definisce spiriti razionali gli uomini e le donne del medioevo sapevano bene che i demoni sono difficili da controllare perché non sono semplici sentimenti ma esseri superiori che possono impadronirsi dell'anima degli esseri umani la guerra e la violenza esercitano un fascino capace di cambiare i sentimenti delle persone il fascino del male che il nuovo testamento chiama il potere delle tenebre dall'altra parte ci sono gli angeli anche qui possiamo porci la domanda chi erano gli angeli per Francesco il santo di Assisi cita più volte gli angeli nei suoi scritti questa sera vorrei soffermarmi su un testo che è stato recentemente attribuito a Francesco d'Assisi una preghiera trovata in un manoscritto di Madrid Francesco come sappiamo compose molte preghiere ogni volta prendeva testi della Bibbia o della liturgia e li assemblava in una nuova composizione la preghiera di cui parlo inizia con questa semplice invocazione o angeli arcangeli troni dominazioni principati potestà potenze dei cieli cherubini e serafini e continua alla fine sintetizzo perciò voi figli degli uomini lodate bene il Signore della gloria sopra tutte le cose magnificatelo molto esaltate e glorificatelo nei secoli dei secoli affinché sia ogni onore gloria nelle altezze a Dio creatore onnipotente e sulla terra sia pace agli uomini di buona volontà gli angeli nel Vangelo della Natività sono quelli che annunciano ai pastori la gloria di Dio e la pace agli uomini di buona volontà questa almeno la traduzione della Vulgata è molto interessante che in questa preghiera Francesco abbia unito l'invocazione agli angeli al ricordo di questa promessa di pace chi sono allora gli angeli sono esseri superiori come i demoni ma sono al servizio di Dio onnipotente di cui guidano le lodi e sono anche gli annunciatori della pace di Dio che dire infine del terzo elemento del tema gli esseri umani secondo l'esordio del sermone di Francesco essi si trovano nel mezzo tra demoni e angeli è una posizione non solo lessicale ma esistenziale gli esseri umani sono più deboli degli spiriti del male i demoni ma possono ricorrere all'aiuto di spiriti del bene gli angeli che li condurranno alla pace di un Dio molto più potente dei demoni e sono molto più potenti dei demoni questo ci porta al cuore del messaggio di Francesco D'Assisi perché dobbiamo ancora spiegare come un simile discorso abbia potuto ottenere il successo di cui parla Tommaso da Spalato qui mi sembra corretta l'interpretazione data qualche tempo dopo da Bonaventura la forza della predicazione di Francesco e dei frati minori dopo di lui derivava dal fatto che egli viveva ciò che proclamava e che la predicazione era confermata dalla sua vita per Francesco la pace non era soltanto un'idea ma una dimensione di vita una caratteristica del suo viaggio tra gli uomini come ricorda ancora una volta nel suo testamento il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto il Signore ti dia la pace questo saluto dominus debi pacem che Francesco nel testamento attribuisce alla rivelazione divina fu percepito come novità dalle donne e gli uomini del suo tempo questa novità si nota nelle prime fonti come il De Incepzione Ordinis dove si legge chiunque li vedesse si meravigliava mai abbiamo visto religiosi vestiti in questa maniera essendo dissimili per abito e per vita da tutti gli altri parevano uomini dei boschi entrando in una città in un castello in una casa annunciavano la pace il riferimento esplicito qui è un passaggio della regola non bollata al capitolo 14 quando i frati vanno per il mondo non portino niente per via né sacco né bisaccia né pane né pecunia né bastone e in qualunque casa entreranno dicano prima pace a questa casa la regola non bollata è certamente la fonte più importante per conoscere il movimento francescano delle origini la citazione che abbiamo appena letto inizia con le parole quando i fratelli andranno per il mondo francesco non voleva che i suoi frati rimanessero in una casa in uno spazio chiuso come in un monastero ma che vivessero sulla strada le ultime parole di questa citazione della regola sono in una citazione del Vangelo di Luca al capitolo 10 dove leggiamo andate ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi non portate borsa né sacca né sandali non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada in qualunque casa entriate di deprime pace in questa casa è chiaro che francesco ha colto l'importanza di queste parole evangeliche che evoca nella regola non bullata perché l'annuncio di pace sia creduto la vita di chi lo annuncia deve essere coerente con tale pace solo gli agnelli sono capaci di portare pace anche tra i lupi la pace evangelica che francesco proclama non era solo un saluto un augurio una benedizione o meglio forse era tutto questo ma anche altro ancora la pace di francesco era un atteggiamento personale nei confronti del male la scelta di non resistere ai malvaggi il capitolo 14 della regola non bullata che abbiamo appena ascoltato continua dicendo e dimorando in quella casa mangino e bevono come quello che sarà presso di loro non resistano al malvagio ma se uno li percuote sulla guancia gli offrano l'altra e se uno toglie loro il mantello non gli impediscono di prendere anche la tunica diano a chiunque chiede a chi toglie loro non lo richiedano l'invito del Vangelo è quello di non resistere ai malvaggi solo rinunciando alla vendetta al risentimento al desiderio di vendetta anche quando sembra legittimo possiamo interrompere la spirale di violenza che genera sempre nuovi conflitti Francesco ha fatto questa scelta di questa scelta il sigillo della propria vita la scelta di un cristianesimo disarmato che non risponde al male con il male perché sa che l'amitezza ha una forza può disarmare il malvagio in sostanza Francesco segue l'indicazione di Paolo non lasciarti vincere dal male ma vinci il male con il bene se torniamo all'episodio di Bologna secondo Tommaso da Spalato Dio conferì alle sue parole tale efficacia che molte famiglie di nobili tra le quali l'immane furore di antiche nemicizie era sfociato in una grande fusione di sangue erano ricondotte a consigli di pace Bologna non fu l'unica città in cui le parole di Francesco riuscirono a suscitare sentimenti di pace abbiamo già visto l'esempio di Arezzo si potrebbe continuare parlando di Perugia di Siena vorrei tornare per un attimo ad Assisi la compilazione di Assisi una delle più interessanti fonti del primo secolo francescano ci dice che in quello stesso periodo sappiamo quando Francesco giaceva malato avendo già composto e fatte cantare le laudi accadde che il vescovo di Assisi allora in carica scomunicò il potestà della città Francesco malato come era fu preso da pietà per loro soprattutto perché nessun ecclesiastico secolare si interessava a ristabilire la pace la scena si svolge in un contesto comune come abbiamo appena ascoltato nelle città italiane del XIII secolo lo scontro tra l'autorità dei vescovi e quella dei poteri civili era un luogo comune nell'epoca l'uso politico di sanzioni religiose come la scomunica è ben studiato dagli specialisti non c'è dubbio che si sia trattato di uno scontro politico ai massimi livelli della piccola città Francesco era malato aveva già composto le lodi cioè il cantico delle creature o di frate sole quindi l'episodio si svolge negli ultimi mesi o anni della vita del santo si aveva già lasciato il palazzo vescovile e si trovava alla porzioncola siamo quindi negli ultimi giorni forse addirittura eppure quest'uomo malato che cosa poteva fare di fronte a un simile confronto ma Francesco dice è grande vergogna per noi che non si trovi chi faccia fare la pace Francesco non crede di essere impotente di fronte alle divisioni e agli scontri è perché pensa di poter fare qualcosa che dice è vergogna ma che cosa può fare compose allora quella strofa ad aggiungere alle laudi laudato sì mi signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermità di tribolazione ciò che Francesco fa di fronte alla violenta contrapposizione politica è una preghiera per la pace il cantico di Frate Sole è infatti una preghiera a cui secondo questa fonte è aggiunto una nuova strofa per l'occasione quella che dice appunto quelli che perdonano per lo tuo amore mi sembra possibile vedere qui la fede di Francesco nel potere della preghiera contro le divisioni e contro la guerra come ad Arezzo aveva chiesto a Frate Silvestro di pregare contro i demoni qui chiede ai suoi compagni di cantare le lodi di Dio perché susciti nel cuore degli uomini il desiderio di perdono e questo come dice la fonte accadde puntualmente la conclusione quella dell'accordo tra i due è straordinaria ma non implausibile se come sembra il potestà era oportulo che aveva grande venerazione per il beato Francesco è possibile che si sia commosso per quelle lodi scritte da lui eppure la fonte dice che tutti i presenti consideravano un grande miracolo che ciò fosse accaduto ma resta da dire ancora qualcosa sul racconto di Tommaso quando aggiunge verso di lui vi era tanta riverenza e devozione della gente che uomini e donne si lanciavano alla rinfusa verso di lui desiderando almeno toccare l'orlo o impadronirsi di un brandello dei suoi poveri panni qui troviamo l'attrazione anche fisica che Francesco esercitava sulle folle che lo circondavano la stessa attrazione che attraverso i secoli mi sembra esista ancora oggi gli specialisti si sono interrogati circa l'origine e la diffusione di quello che è stato chiamato il mito di Francesco d'Assisi che si è andato creando tra XIX e XX secolo ci si è chiesto in particolare se l'immagine mitica di Francesco pacifista uomo di dialogo difensore del creato abbia o meno relazione con l'uomo Francesco vissuto nel XIII secolo a mio modesto parere una qualche relazione c'è la prova forse anche nella celebrazione di quest'oggi se a distanza di 800 anni sentiamo il bisogno di ricordare e celebrare un sermone a ringa pronunciato in piazza è perché evidentemente se ne riconosce ancora oggi la forza ma c'è ancora una piccola cosa un minuto si può aggiungere questa cosa e cioè che l'avvenimento di Bologna ha forse cambiato anche Francesco gli specialisti datano al 1222 un testo del santo di Assisi il biglietto da lui inviato ad Antonio nel quale dice Placet mi quod sacram teologiam legas fratribus dummodo inter uiosmodi studium sancte orationis spiritum non extinguant sicut in regula continetur vale secondo Stefano Brufani che ha studiato per ultimo questo testo ci sono due osservazioni da fare uno che l'espressione Placet mi è una formula giuridica con cui si concede un permesso seconda osservazione che la maggior parte dei codici trasmette la versione con il verbo al plurale non extinguant mentre paolazzi e altri avevano scelto extinguas questo vuol dire che il biglietto di Francesco è indirizzato ad Antonio perché però non estinguano chi i chierici che insieme a lui avrebbero iniziato a studiare a formarsi proprio qui a Bologna se il biglietto come è probabile è stato scritto nei mesi successivi a questa predica in piazza allora si potrebbe pensare che a Bologna Francesco proprio vedendo chierici come Tommaso da Spalato così attratti dalla sua predicazione abbia pensato che sarebbe stato opportuno affidare ad Antonio di dedicare le sue cure anche a questi chierici soperando così un'istintiva prudenza che in precedenza aveva nei confronti degli studi grazie grazie Marco Bartoli che ci hai fatto capire in profondità questo testo a partire dall'esordio ma anche con un contorno di fonti intrecciate con questo documento ora interrompiamo per 5 minuti prima della tavola rotonda va bene grazie a tutti 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 allora se siete d'accordo cominciamo perché abbiamo davvero i tempi molto ristretti allora io mi limito a dare la parola In esordio faccio un rapidissimo riassunto delle puntate precedenti. Cosa abbiamo detto fin qui? Moltissime cose. Quelle che voglio sottolineare e proporre alla discussione perché la seconda e ultima parte di questo pomeriggio va sotto il nome di tavola rotonda e in qualche modo deve cercare di differenziarsi rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Non sono vere e proprie relazioni, sono punti sui quali i nostri oratori ci intratterranno brevemente lanciando punti di vista, questioni sulle quali vogliono tornare. Ecco, il punto a cui siamo arrivati con le puntate precedenti è che le parole di Francesco ci sono restituite da uno studente che viene da fuori, uno studente che era a Bologna verosimilmente per attrezzarsi dal punto di vista culturale, spirituale, ma anche perché era incuriosito da questo mondo politico nel quale veniva ad abitare per il periodo dei suoi studi. Quindi gli interessava molto quello che vedeva, quello che sentiva e cosa vede, cosa sente. In quel giorno dell'agosto del 1222 vede e sente qualcosa che lo colpisce molto, che lo colpisce molto non è detto che abbia colpito altri intellettuali come lui, certo ha colpito le masse, ha colpito tutte quelle persone che hanno riempito la piazza. Quindi due elementi ci sono già chiari. Questo studente che viene da fuori fa un'esperienza che lo colpisce molto, che lo colpisce sotto vari punti di vista, sono già stati detti inutili che li ripeta, e colpisce molto le persone che affollano questa piazza. E gli elementi fondamentali che sono stati detti, sui quali mi limito a una semplicissima sottolineatura, sono come si presenta, Francesco, questo sine pregio andrebbe un attimo rivisto, ecco, si presenta con modalità che sono abbastanza diverse rispetto a quello delle persone che usualmente parlano e hanno posizioni pubbliche di qualche rilievo. Nel modo di vestire, che lo so, si potrà pensare che è un tema che a me interessa e perciò ripropongo, no? Il modo di vestire contava molto, comunicava molto. Fa scandalo. Ecco, le poche cose che dirò ruoteranno tutte intorno a questa parola, scandalo. Il modo con cui lui parla fa scandalo, perché rispetto al tipo di discorso e alla modalità che sceglie nella comunicazione fa scandalo. Esattamente come fa scandalo la forma, diciamo, di relazione che instaura con questa piazza, che si affolla, lo vuole toccare, inutile evocare i selfie dei tempi nostri, però fa di tutto per avere un rapporto diretto, immediato con lui, un altro elemento di scandalo. Quindi questa figura colpisce moltissimo Tommaso per tutte queste ragioni e ne restituisce alcuni elementi sui quali i nostri colleghi hanno parlato e non è certo il caso che io ritorni. L'ultima cosa su cui voglio invece molto brevemente tornare è anche la sensibilità di Tommaso con rispetto alle questioni politiche per le quali lui probabilmente era stato anche mandato a studiare, non soltanto per motivi di carattere così morale e religioso, ma anche per capire meglio cosa accadeva. Ce ne ha parlato Giuliano Milani. C'è questa piazza che è stata inventata per una finalità tipo questa, che viene da Francesco perfettamente intesa come luogo nel quale catturare, nel quale pescare questi uomini, nel quale fare un tipo di sperimento, vorrei dire, quasi di relazione con le persone, per ottenere scopi concreti, scopi precisi. Di qui il tema dell'efficacia, che è un altro degli elementi che verosimilmente consente di parlare di Francesco come uno scandalo. Questa occasione di Parola nel 1222 riassume le ragioni e i motivi per i quali, a mio modo di vedere, può essere sostenuta la tesi, che peraltro non è del tutto originale, ecco che Francesco è scandalo. Questa occasione è un'ottima base per una discussione che faremo adesso nei pochi minuti che abbiamo con tre persone che ci daranno il loro punto di vista, il più possibile problematico, il più possibile stringato, perché più di dieci minuti ognuno di loro non ha. E chiederei al nostro, diciamo, forse più rilevante responsabile di questa giornata, Jacques Dallarana, assieme a molte altre persone, ecco, di avere la bontà e la gentilezza di fare un intervento conclusivo con il quale, spero, ecco, ci sia, per il quale sia il tempo necessario per non sacrificarlo troppo, da qui la necessità di stare tutti nei tempi. Di Luciano Bertazzo, dico una sola parola, è che è piuttosto noto il padre e il professor Bertazzo come docente di Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica del Triveneto, specialista in argomenti come quello di oggi, in particolare di Antonio da Padova, o di Padova, penso che questa sia una delle cose che gli piacerebbe e vorrebbe dire, ed è anche direttore del Centro Studi Antoniani e della rivista Francescana, molto nota e importante, il Santo, e nonostante tutti questi grandi titoli di merito, anche a lui verrà chiesto di parlare per soli dieci minuti. Anzi, chiedo già che mi sia tolta la parola appena, perché le cose appunto da dire, anche peraltro provocate, che negli interventi precedenti, ultimo proprio quello di Marco Bartoli, sul biglietto di Francesco Adantonio, sul quale peraltro avremo intenzione di soffermarci in un seminario molto più approfondito, perché credo che sia un documento chiave. Io volevo spostare un po' il focus da Francesco ad Antonio, in che senso, senza nulla togliere a Francesco quello che abbiamo detto fino adesso, ma per poter comprendere tutta la storia e l'evoluzione dalla Fraternita a San Lordo, e tutta la storia delle origini del movimento francescano, Antonio è direttamente proporzionale a Francesco, cioè complementare alla figura di Francesco. Quindi non possiamo capire il francescanesimo delle origini se non intersechiamo queste due figure complementari, ognuno per il proprio compito, che potrei sintetizzare nella inimitabilità del mito di Francesco, e la imitabilità di Antonio come un modello che viene preso dall'Ordine nella funzione pastorale che è sempre più presente all'interno dell'evoluzione dell'Ordine. Quello che mi interessava a sottolineare sono tre passaggi, stasera appunto nel breve tempo che ho. Il primo è il fatto che anche Antonio, nonostante sia conosciuto alle fonti francestane, per 14 volte lo dichiarano il predicator, però nella pratica, anche della sua presenza, soprattutto nella Quaresima di Padova del 1231, Antonio è un concionator. La vita prima, il capitolo 13, gli effetti della predicazione quaresimale di Antonio a Padova, è una pacificazione della città, un cambiamento totale dei costumi della città, che converte una città che peraltro, come ha ben sottolineato Rigon, era già predisposta ad accogliere questo tipo di parola. Secondo elemento, richiamo solo molto velocemente, questa folla che assedia, che vuole toccare le frange dell'abito sudicio di Francesco, è la stessa folla che assedia Antonio a Padova, che ha bisogno di quattro fratti gorilla, che lo difendano dall'eccessiva devozione della popolazione, che gli vogliono tagliare frange appunto della tonaca, fenomeni che conosciamo anche più recentemente con padre Pio da Pietralcina, di cui domani si fa memoria, e vedo vari confratelli cappuccini qui presenti. Questo vorrei dire che è il primo dato di un parallelismo e di un confronto che possiamo stabilire, quindi facendo anche emergere in un modo diverso la funzione di Antonio nel suo compito di concionator all'interno della sua attività di preditatore nell'Italia del Norte, in Francia, poi ritornando successivamente ancora a Padova. L'altro elemento, appunto, se il primo riguarda la concionazio e la preditatio, il secondo, che vorrei sottolineare, e mi riaggancio allora alla suggestione che ci ha lasciato il professor Bartoli, se Francesco sia stato suggestionato o quantomeno qualche domanda gli sia venuta nella sua presenza qui a Bologna, propriamente sta crescendo lo studium accademico dell'Alma Mater in quel momento. Noi abbiamo dei documenti, il biglietto di Francesco Adantonio lo datiamo ai primi anni del 24, perché cita il capitolo 5 della regola bollata approvata il 29 novembre del 1223. E' vero, è già stato citato, che è la Benignitas, leggenda scritta dopo il capitolo del 1276, che per prima parla di Antonio, lector in quella che era il top delle facoltà teologiche del tempo, che era a Bologna. Quindi non abbiamo citazioni dirette precedenti alla Benignitas del 1276 di una presenza di Antonio qui a Bologna. Ci suffraga però questa assenza, tenendo tonto che c'è anche una memoria lunga all'interno della tradizione dell'Ordine, per cui la Benignitas non necessariamente inventa o costruisce, ma rielabora memorie che sono presenti nell'Ordine stesso, ma ci sono dei documenti particolarmente rilevanti che ci permettono di far comprendere appunto la presenza di Antonio. Scardinando, se volete, anche quella citazione che è stata fatta precedentemente di un Francesco che caccia fuori i frati perché abitavano in una costruzione murata che è un po' un topos che come abbiamo sentito ritorna anche in altre narrazioni ageografiche di Francesco. Ma ci sono due documenti particolarmente rilevanti. Uno, quello di Guido Faba, citato prima dal professor Parmeggiani, è ampiamente utilizzato anche dal professor Rigon nella sua ricostruzione della vicenda biografica di Antonio, in cui, lasciando da parte l'autenticità, noi troviamo questa dictamina, queste lettere che vengono riportate. Uno, che il Gaudenzi mette espressamente come un frater Antonio dell'ordine fratrum minorum, Artifoni, con maggiore attenzione, parla di un frater A e anche a Rigon la mette come una ipotesi estremamente suggestiva. Ma di una lettera scritta da questo frater A dell'ordine dei frati minori per consolare una vedova rimasta appunto tale con una risposta di accoglienza della lettera ricevuta. Molto più importante, credo che sia, e lo collochiamo all'interno del discorso più ampio dei sermoni, il fatto della citazione per cui l'arcidiatono della chiesa di Vicenza scrive all'arcidiatono della chiesa di Parma chiedendo che gli siano inviati i sermoni di fratris Antoni quindi dell'ordine dei frati minori. Siamo tra il 1226 e il 1228 così da Udenzi data questa lettera e quindi una luce che si accende sulla composizione dei sermoni di Antonio particolarmente, credo, rilevante. L'altro elemento che vorrei sottolineare è la miscellanea del codice del tesoro composto il codice 720 che ratoglie nella prima parte i 70 sermoni di Antonio dell'edizione trittica del 1979 ma la miscellanea è stata pubblicata editata successivamente da Gaffurri, Passarin e Frasson dove Quinto Riccardo Quinto ahimè prematuramente scomparso riutilizza ampiamente il sermone decimo di questa miscellanea che è una raccolta di sermoni e di frammenti trovati nel codice che la Giove recentemente attribuisce appunto composto alla presenza stessa di Antonio in cui si cita un sermone fatto nel luogo di San Nicolò della Vigna qui a luogo locus domenicano riportando descrivendo pronto anche una vita comunitaria estremamente austera e credo che questa citazione presente nella miscellanea apre veramente una finestra anzi spalanca una porta vorrei dire sul legame tra lo studio la presenza dei frati minori il collegamento con i domenitani tenendo tonto ulteriormente grazie anche agli studi che sono così ampiamente presentati nel centenario di domenito tenendo presente che nel 1221 priore nel San Nicolò delle Vigne è Paolus Ungarus che ci ha lasciato varie summe di penitenzia uno dei temi che sappiamo essere focosamente presenti nei sermoni di Sant'Antonio in un contesto particolare in cui stando alla citazione di Luciano Gargan che ha studiato molto la biblioteca dei Domenicani di Padova l'insegnamento dei canoni in vista di una lettura penitenziale coincideva era compresente con uno studio teologico quindi io trovo tutte queste interconnessioni che sono presenti tra la figura di Antonio la sua attività la sua presenza particolarmente appunto in cui Bologna giota un ruolo determinante che ci auguriamo come sto sollecitando inopportunatamente forse anche il professor Parmegiani e Pietro Del Torno a poter appunto riprendere questa ampliare questi luci che si sono accesi per uno studio più sistematico sullo studium dei frati minori a Polonia grazie alla figura di Antonio mi deve togliere la parola grazie no per carità grazie anche la devo ringraziare lei ha buttato la rete speriamo che qualche pesce ci resti impigliato dunque darei la parola adesso senz'altro a Massimo Giansante che ha avuto diciamo il privilegio di mettere insieme nella sua vita l'amore per la ricerca con la cura delle carte che consentono la ricerca si è laureato da noi con il professor Vasina lo ricordo con un grande piacere e si è sempre occupato di temi prossimi a quello che anche oggi ci interessa anche se a me interessa in particolare ricordare i suoi lavori che hanno riguardato il tema anche del credito l'usuraio onorato molti importanti lavori che hanno riguardato il 200 a Bologna il comune di popolo numeroso diciamo bottino di voce del dizionario biografico insomma Massimo Giansante a te la parola e credo anche che ci sarà qualche elemento sì un po' un po' tecnico un po' un po' specifico un po' circoscritto ma penso alla fine e anche da quello che ho sentito poco fa non irrilevante per l'interpretazione complessiva della vicenda e cioè mi vorrei soffermare sulla data della vicenda tutti gli storici tutti i biografi di Francesco tutti gli studiosi di storia della chiesa dell'omeletica della retorica tutti eccetto uno studioso che ha parlato a questo tavolo poco fa e che occupandosi del tema è giunto alle mie stesse conclusioni ma con la eleganza la signorilità che lo contraddistingue non ha voluto anticipare e lo ringrazio di questa cortesia grazie Giuliano ma a parte lui tutti hanno datato la predica di San Francesco nella piazza di Bologna al 15 agosto del 1222 e noi siamo qui oggi proprio per questo ciò avviene perché gli editori della fonte principale cioè Tommaso da Spalato sia Heinemann nel 1892 sia Olga Peric nel 2006 propongono senza esitazioni quella data 15 agosto 1222 rileggiamo questa parte della nostra fonte cioè l'inizio del racconto di Tommaso da Spalato in quel tempo ci fu nel giorno di Natale all'ora terza un terribile terremoto in Liguria Emilia e Veneto tanto che molti edifici crollarono soprattutto la città di Brescia fu quasi completamente rasa al suolo e perirono tantissime persone in particolare eretici nello stesso anno il giorno dell'assunzione di Maria Vergine mentre mi trovavo a studiare a Bologna vidi San Francesco che predicava nella piazza antistanti il palazzo pubblico dove si era riunita quasi tutta la cittadinanza l'argomento dell'orazione fu questo gli angeli gli uomini i demoni dunque Tommaso dice di aver assistito alla predica di Francesco a Bologna nel giorno dell'assunta nell'anno del grande terremoto di Brescia tutte le cronache in particolare gli annali bresciani datano quell'evento ma anche molti studiosi sismologi storici dei movimenti tellurici tutti indistintamente datano quell'evento al Natale del 1222 quindi se ritenessimo come sembra abbiano fatto tutti gli interpreti che Tommaso voglia riferirsi al 15 agosto 1222 dovremmo dedurre che come noi oggi egli adottasse lo stile della circoncisione che fa iniziare l'anno al primo di gennaio e che quando parla del terremoto del Natale del 1222 tornasse poi all'indietro all'agosto precedente cosa che per un cronista non è tanto usuale cronista e storico ma lasciamo perdere in questo momento in realtà vari argomenti portano ad escludere che Tommaso adotti lo stile della circoncisione cioè l'anno il primo gennaio prima di tutto perché è uno stile adottato rarissimamente prima del XVI secolo e mai da autori ecclesiastici che lo considerano un anticus error cioè un uso sbagliato in quanto affine a quello dei pagani anche se per noi è lo stile della circoncisione 2 Tommaso aveva studiato come gli stesso dichiara con orgoglio a Bologna frequentando i corsi di diritto e di notariato sui quali nella sua opera si dimostra molto ferrato e a cui si attiene con scrupolo ebbene nella prassi notarile bolognese ma lo stesso si può dire per tutta l'Italia centro-settentrionale lo stile della datazione e lo stile della natività anno nativitatis domini o anno domini ogni volta che Tommaso riporta una data lo fa riferendosi agli anni di Dio anno domini in tutta la sua opera procede narrando le vicende delle chiese di Salona e di Spalato in ordine cronologico secondo lo stile dei gesta episcoporum se nel caso del terremoto di Brescia predica di Francesco procedesse all'indietro sarebbe l'unico caso in tutta la sua opera se volessimo ritenere infine nonostante queste premesse che Tommaso in quanto Dalmata adottasse lo stile bizantino dovremmo pensare che per lui il Natale del 1222 era compreso nell'anno che iniziava il primo settembre del 1222 e terminava il 31 agosto del 1223 il che non cambia l'esito delle nostre riflessioni che è il seguente Tommaso usa lo stile cronologico della Natività e quindi il Natale del Grande Terremoto è il primo giorno di un anno che inizia il 25 dicembre 1222 e termina il 24 dicembre del 1223 pertanto quando dice quell'anno ci fu il Grande Terremoto e poi in quello stesso anno vedi Francesco predicare a Bologna sta procedendo in ordine cronologico naturale e si riferisce quindi al 15 agosto del 1223 siamo oggi qui con un anno di anticipo il che non toglie che ci ritroviamo l'anno prossimo ora non è una pignoleria perché in realtà dalle relazioni molto belle che abbiamo sentito poco fa pare che questo spostamento per Giuliano e la storia di Bologna forse non è rilevantissimo ma per la biografia di Francesco invece ha un certo spessore è qualcosa di un certo rilievo perché questo suo intervento nell'agosto del 1223 si colloca pochi mesi dopo quello della Pasqua del 1223 a Perugia che aveva avuto come abbiamo sentito le stesse finalità di pacificazione delle lotte di fazione si tratterebbe in sostanza di uno degli ultimi se non dell'ultimo intervento pubblico e apertamente politico di Francesco prima della scelta eremitica dell'anno successivo vado rapidamente a concludere vorrei dedicare gli ultimi due minuti del tempo che mi è concesso a illustrare le ragioni per cui il tema trattato uomini angeli demoni era percepito dal pubblico riunito in piazza non come un argomento teologico pastorale da omelia ma come un tema pienamente politico da concione appunto come ci dice il cronista finalizzato a un obiettivo politico come la fine delle lotte di parte questo perché perché la presenza l'intervento degli angeli nelle vicende umane era per gli uomini del medioevo una realtà pacificamente accettata e lo era anche in una prospettiva politica per i pubblici amministratori dell'epoca vorrei citare a dimostrazione di questo assunto due fonti duecentesche distanti 70 anni l'una dall'altra che affrontano il tema della presenza degli angeli in mezzo agli uomini anzi più precisamente della guida degli angeli per le comunità umane la prelatura angelica si tratta di una lettera di Papa Onorio III al re di Castiglia del 1218 e di una rubrica degli statuti comunali di Bologna del 1288 in entrambi i testi non affronto il tema complesso della possibile dipendenza fra questi due testi comunque in entrambi i testi si afferma il principio che la prelatura il principato umano la guida di un uomo posto a capo della comunità umana in luogo di una guida angelica è stata disposta da Dio affinché l'affinità di specie fra governante e governati rendesse più accettabile per i governati la perdita della libertà conseguenza dell'esistenza del potere politico cioè il fatto che avere un capo una guida della propria stessa specie rendesse più accettabile il potere politico con tutte le sue inevitabili conseguenze negative dice il testo sia la lettera che lo statuto ut gratiorem prelaturam efficieret identitas specie quindi perché la identità di specie fra il popolo e il loro governante rendesse più accettabile la presenza del potere politico una scelta di opportunità compiuta dalla provvidenza divina dovuta alla necessità di arginare le trasgressioni dilaganti il che non toglie che in un contesto più armonioso e più vicino alla legge di natura gli angeli potessero essere preposti alle comunità umane come avveniva nei tempi biblici come dice Daniele del principe di Persia del principe di Grecia del principe di Israele che sono angeli quella importante lettera di Onorio viene recepita da molte cancellerie dell'epoca fra cui quella di Federico II in cui operava Pier delle Vigne ed è probabile che l'idea della prelatura angelica arrivi agli statuti di Bologna è probabile ma non certo con questo tramite nemmeno si può escludere che quella lettera possa essere una fonte della concione di Francesco anche se mi sembra improbabile ciò che mi sembra invece più possibile è che Francesco si ispirasse a quegli stessi temi a quelle stesse fonti bibliche cioè i riferimenti che delineavano un contesto di armonia cosmica e civile in cui uomini e angeli collaboravano per contrastare le opposte tendenze delle forze del male il caos e i sanguinosi conflitti che turbavano le nostre città a questo si riferisce Tommaso quando dice gli argomenti utilizzati e il carisma oratorio di Francesco raggiunsero quel giorno l'obiettivo e questo riportò a Bologna almeno per qualche tempo pace e armonia fra gli uomini grazie tra le ragioni della gratitudine a Gian Sante è l'avere un anno davanti per ripensare ritornare aggiungere e dare a tutte le persone che ho costretto a stare in termini così distretti tutti quei dettagli in più che vorranno la parola a Pietro Del Corno che ha avuto anche parte nell'organizzazione di questa giornata che dopo si è laureato da noi dopo essere stato parecchi anni all'estero è tornato finalmente qua a lui dobbiamo diversi studi sulla predicazione un uscito dal mulino una prestigiosa casa editrice Brile ha anche organizzato una cosa che più di uno qua di noi associerà anche a questa giornata che è stata la mostra una voce nella città predicatori e società da domenico alla riforma che qua a Bologna ha richiamato anche molte persone ed è stata un'occasione anche per parlare di alcuni di questi temi dei quali oggi certamente ci vorrebbe ci potrebbe parlare più a lungo ma anche per lui vale l'obbligo ai dieci minuti Pietro sì grazie e ringrazio molto intanto tutti i relatori e gli organizzatori io vorrei condividere con voi un dubbio anzitutto cioè che noi siamo qui a parlare non solo nell'anno sbagliato ma stiamo a parlare di una cosa che è un non evento no perché la ricca ricchissima produzione di leggende su Francesco prodotte all'interno dell'ordine non sente alcuna esigenza di ricordare raccontare mitizzare questo episodio abbiamo sentito si concentra su altri altre città Arezza Sisi Perugia e ugualmente Bologna non sembra prestare alcuna attenzione a questo non vi sono testimonio cronisti bolognesi dell'epoca a registrare questo episodio a commentare il suo impatto o non impatto sulla città in un certo senso provocatoriamente possiamo dire che quel giorno non accadde nulla di speciale secondo queste fonti Francesco fra Francesco la città fa la città nulla da dichiarare nulla da registrare se siamo qui oggi e l'abbiamo sentito dire 3000 volte si deve soltanto ad alcuni studenti che invece dicono no qui sta accadendo qualche cosa di memorabile almeno per loro non si sa se per la città e non certo per l'ordine questi sono in città per studiare fare carriera acquistare strumenti culturali per interpretare ma anche poi per raccontarci questo episodio con una cronaca l'abbiamo sentita e l'altra questo studente che invece ricorda di essere stato a Bologna dentro un altro genere un sermone e ovviamente si potrebbe riflettere su questo mondo universitario ma c'è stato promesso un convegno da padre Luciano Bertazzo sul rapporto Francescani e Università Bologna quindi possiamo tralasciare e tornerei allora a ragionare che tutto il discorso che noi facciamo su questa predica di Franceschi in piazza a ben guardare si regge sulla memoria di un solo testimone è Tommaso d'Aspalato un testimone a cui per varie ragioni noi vogliamo credere in un certo senso ma che va interrogato seriamente e quest'oggi lo è stato quindi non c'è bisogno che io insista se non nel dire che Tommaso dice cose anche che noi dobbiamo cogliere anche nella loro cifra ageografica il non essere bello di Francesco è anche un eco biblico potente e nella loro funzione politica e forse anche dell'inevitabile curvatura che assume la memoria di eventi raccontati a distanza di tempo e che sono da un lato nitidissimi e io penso anche perché Tommaso questa cosa l'avrà raccontata chissà quante volte a dire sapete io là mentre studiavo ho incontrato sentito ma una memoria che si cristallizza e che seleziona e che forse anche falsa alcuni punti tipo questa grande pacificazione della città forse si può mettere in questione se davvero l'effetto è stato raggiunto quindi dicevo forse l'effetto per noi è che gli crediamo troppo perché in fondo vogliamo sentirci dire che c'è questo Francesco il Francesco che ci piace il Francesco della pace che non è invece scomodo radicale durissimo abbiamo sentito nella relazione di Monsignora Crocca tirar fuori i malati dalla casa intervenire in maniera dura queste sono fonti che ci mettono più in difficoltà forse o su cui non organizziamo una giornata per ricordare il singolo episodio di quelle fonti e ci sarebbe tutto un percorso forse da fare su dire com'è che questa fonte questo racconto di Tommaso ci arriva provato a ripercorrerlo ma salto questo ma c'è una linea molto nobile Carlo Sigogno Lucas Wodding e poi Ludovico Antonio Muratori nella storia d'Italia insomma entra da voci importanti e poi tutto il novecento ma insomma lascio stare questa parte ma oltre al mondo accademico e andrebbe forse capito se in dialogo con esso o in maniera indipendente la pagina di Tommaso da Spalado e il suo Francesco ha però la capacità di intercettare esigenze più ampie come mostra già stato ricordato la lapide nel cortile del comune di Bologna posta nel 1982 che prende una sua citazione quella sulla capacità di gettare fondamenta di pace e anche qui sarebbe forse interessante ricostruire chi propose di mettere quella lapide chi decise cosa scrivere e dentro forse una convergenza sul tema della pace che nella Bologna ad inizio anni 80 tra un mondo cattolico ancora segnato da Lercare e Dossetti e un comune saldamente nelle mani del PC di Berlinguer forse vedeva su questo una possibile convergenza o una convergenza parallela il nostro comune mise questa lapide che però non era la prima a ricordare questo evento a Bologna il luogo era straordinario metterla qui nel comune ma c'era già una memoria pubblica perché nel centenario del 1926 700 anni dalla morte di Francesco in un luogo più defilato nel parco davanti alla chiesa dei Cappuccini fuori porta Saragozza sul basamento della colonna che regge la Statua del Santo si ringrazia il contributo finanziario si dice del popolo bolognese memore del grido di pace lanciato sulla piazza maggiore dall'araldo di Cristo fine della citazione un'esaltazione della pace nel 1926 che sembra quasi una forse involontaria anzi penso involontaria provocazione se si pensa ai progetti ai valori della cultura fascista che si andavano affermando allora come una marea montante a Bologna e altrove e allora vorrei arrivare al punto finale della mia considerazione il concentrarsi su questo episodio risponde anche a un desiderio profondo a ritrovarvi il Francesco che parla di questioni che sentiamo urgenti e questa è un'arma a doppio taglio può essere come è stato direi oggi l'occasione per riflettere sul passato come un nutrimento per il presente e per il futuro ma può anche diventare una memoria mitica a scapito della complessità delle vicende o che si presta anche a ricostruzioni fantasiose se ne potrebbero citare nelle fonti per disinnescare direi questo rischio dobbiamo forse ricordare riflettere anche come abbiamo sentito sugli altri episodi che legano Francesca Bologna sul Francesco anche durissimo che maledice per l'eternità un dotto frate o che costringe i malati a uscire da una casa e che in un certo senso è ricondotto a ragionevolezza dai consigli di qualche frate domenicano non sappiamo se sono fonti più reali ma dobbiamo considerare anche quelle e oggi le abbiamo fatte in realtà in parte e infine il richiamo che ho fatto alle due lapidi ci avvisa che come storici ma anche come città nelle sue molteplici istituzioni dobbiamo pensare come si vuole andare verso il prossimo centenario quello del 2026 sapendo che tali appuntamenti sono insieme una maledizione e una opportunità grazie 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 Pietro è il momento delle conclusioni che lasciamo al nostro illustre francescanista Jacques Dallarin però come negare al professor Bertazzo un minuto che ha chiesto di avere per dire una cosa era semplicemente una ulteriore suggestione che mi veniva perché se nel 1222 c'è l'esodo per gli aspetti che erano stati sottolineati precedentemente di alcuni studenti e docenti dallo studium verso Padova volevo sottolineare che a chiedere la canonizzazione di Antonio in modo molto accelerato dopo 11 mesi è già canonizzato c'è anche la turba studentium dell'Università di Padova quindi trovo che ci sono questi collegamenti che potrebbero ulteriormente illuminare queste connessioni tra lo studio di Bologna e la presenza di Padova tra parentesi credo che la settimana prossima ci sarà una turba di studenti che da Padova verrà a piedi fino a Bologna proprio per ritornare gli 800 anni dell'Università di Padova grazie la parola a Jacques Dallarant grazie tante Maria Giuseppina chi non è da Bologna ma soltanto di Bologna meravigliose sfumature della lingua italiana chi è soltanto di Bologna da Bologna questo privilegio che quello oriundus de civitate Bologna mai avrà e che si può ricordare chi è soltanto di Bologna la prima volta che ha non dico visitato non dico scoperto dico incontrato la città e io mi ricordo a Marcord come diceva quello di Rimini ero sceso in stazione avevo avuto un pensiero commosso per le vittime della strage e poi avevo preso la via indipendenza arrivato al Nettuno e qui mi ero ritrovato stupito davanti a Piazza Maggiore c'erano era una domenica mattina c'erano dei gruppetti di quelli che chiamavo in questo tempo dei vecchieti che oggi sarebbero i miei coetani e cosa facevano? Parlavano parlavano tra di loro con furia con entusiasmo con disperanza con delusione con amore parlavano non di calcio parlavano della città dicevano il loro amore della città cosa è una città una città medievale una città medievale italiana è una densità anormale di gente è un'agglomerazione è un'agglomerato di esseri umani e uno strapieno che sbocca sul vuoto che sbocca sul vuoto della piazza siccome il centro dell'oceano è l'isola siccome il centro del deserto è l'oasis cioè il contrario del mare il contrario del deserto il centro della città e il vuoto della piazza centrale questo vuoto è il palcoscenico necessario del teatro civico italiano c'è una dialettica fondamentale ontologica tra la piazza e il comune e dal vuoto della piazza nasce all'inizio del duecento fine del dodicesimo inizio del duecento nascono due novità la novità comunale e la novità francescana la novità di due parole nuove che hanno relazioni complessissime che sono assolutamente contemporane che nascono da un vuoto che è anche il vuoto l'interstizio che si è aperto tra l'impero e la chiesa tra l'imperatore e il papato è quella la piazza di Bologna e Giuliano ci ha mostrato come hanno lottato per distruggere le case e acquistare i terreni per aprire questo vuoto necessario l'incontro di Francesco in piazza è un incontro dei contrari e Maria Giuseppina ha avuto ragione di dire è uno scandalo è l'incontro dei contrari perché Bologna è una società più che urbana urbanissima e questo Francesco che arriva anche lui di una città molto più piccola a Sisi ma che fondamentalmente è un cittadino nel frattempo attraverso la sua conversione religiosa si è fatto rusticus più che rusticus si è fatto selvaticus non è più un uomo del lager è un uomo del saltus arriva brutto sporco e nella vita che ho avuto la fortuna di riscoprire si dice che quando lui aveva un buco nel saio lo riparava non con filo o tessuto ma con la corteccia degli alberi quindi un uomo selvaggio un uomo dei boschi di fronte alla società più urbana forse nel mondo in questo momento e poi ignoranzum et idiota lo ricordava Marco è un idiota un illetterato a seconda dei criteri del tempo uno che non ha la maestranza del latino come lo prova la lettera che manda per avvertire del terremoto gli studenti di Bologna e quest'idiota è di fronte alla società più colta del tempo quella della prima università e ha fatto la scelta quasi contraria dei concorrenti amici di San Domenico che loro hanno fatto subito la scelta degli studi mentre nel caso di Francesco è una storia molto più complessa ecco ciò che avviene e quest'incontro dei contrari che diventa una fusione Francesco e la folla vivono un momento di simbiosi incredibile e credo che è legato al fatto che ci sono penne omnes quasi tutti e Giacomo Davitri diceva che Francesco aveva una singolarità incredibile che la sua fraternità non era ancora un ordine era aperta a tutti senza eccezione pensateci un po' stiamo negli anni 1210-20 quando si ritroverà un'esperienza umana aperto a tutti e nella quale tutti possono accedere a tutte le funzioni prima nelle nostre democrazie del ventesimo secolo quando succederà mai è un'esperienza unica ed ecco spiega questo momento di fusione tra l'uomo dei boschi e la città più colta del mondo quando è successo questo incontro nel 22 o nel 23 Tommaso da Spalato ci racconta le cose una trentina di anni dopo cioè quando siamo andati per la prima volta in Sardegna era nel 92 o nel 93 lo sapete dire nelle vostre vite quindi c'è un dubbio c'è un dubbio comunque è meglio troppo presto che troppo tardi e sarà perché ovviamente mi piace tanto l'idea di l'ipotesi che è più di un'ipotesi mi piace tanto così lo rifaremo l'anno prossimo non c'è problema ma la cosa di cui siamo sicuri perché mai un cronista sbaglia su quello e che è avvenuto a Ferragosto il 15 agosto mai sbagliano sulle date liturgiche sbagliano suriani mai sulle date liturgiche oggi come oggi Ferragosto Bologna è vuota e deserta ma nel medioevo Ferragosto la città era strapiena ed è la festa della Vergine la Vergine che nel momento della natività di Cristo ha avuto intorno a lei gli angeli che dicevano pace agli uomini di buona volontà e bisognerebbe scavare la liturgia perché questo tema da dove viene angeli uomini demoni verrà dalla preghiera di Anselmo di Cantorberi O femina mirabiliter singularis ed singulariter mirabilis introdotta nella liturgia mariana e che dice al verso successivo per quam i demoni sono scacciati gli uomini salvati e gli angeli reintegrati potrebbe essere l'origine di questa triade di parlare ecco e a me piacerebbe sapere non soltanto che giorno ma a che ora è successo alla fine di mattinata scommetterei nel pomeriggio facevano la siesta ovviamente il faragosto e il tredicesimo secolo era caldo come oggi angeli uomini demoni c'è tutta la visione di Francesco dietro a quello perché la pace che Francesco cerca di fare il discorso è discorso di pace non c'è dubbio e sì la pace civica tra le fazioni che ovviamente sono le fazioni aristocratiche siamo appena appena nel momento di un'apertura popolare che non è il popolo nel senso in cui li intendiamo oggi come oggi quindi pace civica certo ma fare la pace civica nel medioevo nei comuni italiani è il mito di Sisyfo no? perché è sempre da ricominciare lo sanno quelli dell'alleluia che hanno cercato negli anni 1230 di predicare la pace appena andavano via ricominciava la guerra pace civica sì ma nello spirito di Francesco la pace civica non va senza la pace sociale non va se c'è la miseria non va se non c'è la cura dei più poveri quindi pace civica pace sociale e pace cosmica come dicevi molto giustamente quella del contico delle creature quella che ci dice che sola terra nostra madre ci sustenta e governa ecco una rivoluzione il governo della terra sugli uomini e non il dominio degli uomini sulla terra e dice l'ammunizione 5 che conoscono ovviamente felice Marco dice oh uomo considera qual è la tua fortuna Dio ha fatto il mondo per te Francesco è antropocentrico non è antropocentrista è antropocentrico Dio ha fatto la creazione per te ma tu sei stato peggiore dei demoni perché Dio ha mandato tuo figlio per salvarti quando hai peccato ma tu l'hai crocifissato e non che i demoni hanno crocifissato il figlio di Dio si c'è una durezza diceva Grado Merlo c'è una vera durezza di Francesco quando si tratta della durezza al servizio della pace ultimo punto e chiudo su quello questo momento di fusione straordinaria tra la fola di Bologna e l'uomo Francesco si fa senza la minima referenza scusate scusate Dino senza la minima referenza ai frati i frati sono totalmente assenti dall'episodio come lo sono se guardate bene dal Natale di Greccio il Natale di Greccio è l'incontro dell'uomo Francesco con una società castrale un piccolo castrum di Sabina il Ferragosto di Bologna è l'incontro dell'uomo Francesco con la fola cittadina di Bologna i frati non ci sono in realtà c'erano c'erano perché come ricordava Felice c'è un altro dilema è quello dello stabilimento dell'istituzionalizzazione dell'ordine e Francesco ha difficoltà ad ammettere ad accettare questo passo avanti che lui vede come un passo indietro ma i frati ci sono ed è perché secondo me Francesco non è venuto soltanto una volta e potremmo festeggiare due volte la sua venuta a Bologna perché la piazza sarebbe stata piena se non ci fosse stata una locondina per annunciare l'evento perché siete qui perché avete visto la locondina quelli che erano sotto sulla piazza maggiore nel 1222 23 erano stati avvertiti dai frati qui presenti e quindi Bologna si è il luogo di una guerra alla guerra di una durezza per servire la pace ed è anche un momento di riconciliazione di Francesco perché la difficoltà non è fare un evento anche se un po' postumo come diceva molto giustamente Pietro non è fare un evento sappiamo benissimo che questi grandi eventi hanno un eco molto breve la difficoltà nella storia è durare è la durata e il messaggio di Francesco la memoria di Francesco la memoria della sua venuta a Bologna è durata perché c'è stato l'ordine perché c'è stata la famiglia francescana perché c'è stata l'istituzionalizzazione che è la garanzia di durata quella è forse la riconciliazione che Francesco avrà capito dopo di aver distrutto la casa e l'altra riconciliazione Marco e Luciano l'hanno detto benissimo è quella con gli studi Francesco è uno che non è nel compromesso mai ma ha bisogno di essere nella riconciliazione e ha bisogno di riconciliare i contrari che sono all'interno di lui tra il mondo e lui sì tra il mondo e il messaggio evangelico sì ma anche le tensioni che ha all'interno di lui tra la voglia della purezza assoluta e la voglia della durata nella storia umana allora si dice che oggi la quattordicesima edizione del festival francescano io non dico io dico no la prima edizione era quella del 21 la seconda del 22 la terza del 23 1200 è stato il primo festival francescano nel senso più stretto della parola francescana e se oggi come oggi otto secoli dopo c'è il festival francescano in piazza se noi siamo qui e perché c'è stata un'istituzione difficile da ammettere da parte di Francesco ma di cui forse ha capito la necessità qui a Bologna grazie verrebbe da applaudire in piedi ma restiamo seduti un grande grazie un grande grazie a Jacques Dallarand per queste conclusioni veramente importanti e anche per aver pensato e fatto una gran parte nell'organizzazione assieme a Riccardo assieme a Pietro e assieme a molte altre persone ancora una volta un lavoro collettivo un lavoro non dico fatto in piazza ma insomma fatto in comunità ricordo proprio così rapidissimamente che è stato anche l'anno della cometa della cometa di Ale può sembrare una cosa senza senso invece ha un senso perché quella cometa è entrata da lì a poco da quando Giotto l'ha rappresentata sulla sulla scena della natività nella nostra idea della natività cioè ci sono cose che nascono in un anno forse in un altro anno e che poi durano spero come il festival francescano e spero come il vostro interesse per questo tema grazie grazie a tutti e ai prossimi giorni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti